Saluto i nostri ospiti e per necessità comunico che ai sensi dell'articolo 13,4 del regolamento della Commissione la pubblicità dei lavori della seduta odierna per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito la trasmissione in diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Avverto che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Oggi siamo qui per l'audizione del Presidente, dell'amministratore delegato e del Direttore Generale della RAI che saluto e ringrazio per la loro disponibilità. Abbiamo la Presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato appunto Roberto Sergio e il Direttore Generale Corporate della RAI, Gian Paolo Rossi. Per la disponibilità li ringrazio ad essere qui e spero che presto possano comunque anche ritornare in modo periodico. L'audizione di oggi è la prima occasione che abbiamo di incontrarli ed è un'occasione preziosa per noi, per questa commissione, in quanto la RAI è un bene comune e noi abbiamo il dovere di far sì che questo bene comune possa essere protetto e far sì che questo bene comune possa essere baluardo di pluralismo, di libertà, di sana informazione e anche di accompagnamento della nostra cittadinanza e della nostra cultura italiana verso un progresso sempre più sostenibile e culturalmente elevato. Io lascerei la parola alla Presidente così non rubo altro tempo e auguro a tutti buon lavoro. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli commissari, sono molto lieta di incontrarvi e di avere questa prima occasione di confronto con fido costruttiva e di avvio ad altri proficui scambi. Sono stata in quest'Aula l'ultima volta nel giugno scorso, quasi un anno fa, e solo con quattro di voi ci eravamo confrontati nell'ultima legislatura. Il giorno in cui è caduto il precedente governo, il 21 luglio 2022, saremmo dovuti tornare qui per illustrare il piano immobiliare dell'azienda, poi approvato dal CDA all'unanimità il 28 luglio seguente, subito dopo. Le linee di sviluppo del piano immobiliare furono rese note all'allora Presidente Barachini. Voglio cominciare proprio dal piano immobiliare, da dove ci siamo lasciati, per raccontare il percorso in un'ottica di continuità tra il lavoro del nuovo vertice aziendale e il precedente, tra questa commissione di vicinanza e la precedente. Inoltre vorrei trasferirvi un senso di urgenza. L'azienda, pur avendo chiuso con il bilancio in pareggio, affronta una situazione di indebitamento pari a 580 milioni di euro nel 2022. Per un rinnovo necessario delle forme di finanziamento sul mercato ci vuole un piano industriale credibile e realistico, approvato a stretto giro e tassativamente non oltre il 2023. Il piano immobiliare è parte integrante del piano industriale ed insieme al contratto di servizio al piano in sostenibilità è uno dei pilastri strategici della RAE Digital Media Company. Il piano immobiliare che si autofinanzia delinea un iter di 10 anni e parte dai dati di utilizzo degli spazi ed uffici per razionalizzare e modernizzare l'intero parco immobiliare della RAE, compresa, finalmente, la bonifica dell'amianto in Viale Mazzini. Il piano immobiliare fa leva, infatti, sulle modalità di lavoro flessibile ai gruppi di lavoro trasversali, smart working e desk sharing, sulla dematerializzazione dei supporti e degli archivi e sulla riduzione dell'impatto ambientale. La digitalizzazione dei processi è il punto di partenza di questo piano, che allo stesso tempo rappresenta uno straordinario catalizzatore di ulteriore sviluppo digitale e di sostenibilità finanziaria. Il piano immobiliare richiede l'allineamento e l'approvazione del CDA ad ogni snodo decisionale. L'ultimo, il 20 aprile 2023, è stato il via libera all'accordo per lo spostamento del centro di produzione RAE di Milano. Il prossimo passaggio formale è previsto entro il 31 ottobre di quest'anno per la stipola del contratto preliminare vincolante di locazione per l'area Portello-Miconord, appunto, a Milano. Ci saranno alcuni slide, non tantissimi in questa presentazione. Parto con il primo, così non mi vedo ma vedo un'altra cosa. Veniamo qua. Se riesciamo a... Aiuto. Avevamo fatto le prove. Ecco qua. Grazie. Ok. L'azienda, dunque, sui tre progetti strategici che qui vedete illustrati, non è rimasta ferma. Un po' questo è il messaggio da dare in quest'anno che non ci siamo visti. Questi sono i tre progetti strategici. Alla sinistra abbiamo il contratto di servizio che definisce i valori, priorità e obblighi del servizio pubblico. Esistono già le linee guida approvate dell'Agecom, sulle quali abbiamo lavorato con il Mimit e confidiamo in una interlocuzione tempestiva ed efficace con la presa in carico da parte del nuovo amministratore delegato. Secondo aspetto, il piano industriale, di cui è parte il piano immobiliare appena illustrato, definisce le priorità strategiche e il piano di attuazione del contratto, in coerenza con il contratto di servizio e sulla base delle risorse disponibili. È stato ampiamente dibattuto in CDA e in attesa di conoscere dall'azionista le risorse disponibili e alla valutazione del nuovo vertice. Il piano di sostabilità ISG che vedete sotto, dove le lettere ISG, che sono una connotazione universale, stanno per Environmental, Social and Governance, cioè ambientale, sociale ed impresa e trasforma i valori in azioni e fa da cerniera tra il contratto e il piano industriale. L'attuazione del piano di sostenibilità è dunque legata alla definizione di questi altri due pezzi e illustra alcuni aspetti del lavoro di sostenibilità, anche perché molto è stato fatto ed è anche una delega della Presidenza, perciò sono un po' più intitolata a parlarne. La RAI deve mettere la sostenibilità ISG al centro delle proprie strategie per tre motivi fondamentali. Da un lato le tematiche ISG sono imprescindibili per il servizio pubblico e riconducibili alla sua stessa essenza, ai suoi valori e alla sua missione. Accessibilità ed inclusione, coesione sociale, transizione ambientale, responsabilità ed affidabilità. Temi nel cuore dei giovani, ma non solo. Dall'altro lato, la sostenibilità è un importante fattore di creazione di valore economico per le imprese. Buoni indicatori di sostenibilità portano benefici concreti, finanziari, diminuiscono per esempio il costo del debito che noi abbiamo. In prospettiva migliorano la finanziabilità delle aziende. E infine gli obiettivi di sostenibilità sono imposti in via crescente dal quadro normativo europeo. Dobbiamo farlo. L'impronta di questa consigliatura impegnata a dare allo sostenibilità non è filosofica ma è molto pratica. Un anno fa abbiamo trasformato la direzione RAI per il sociale in RAI per la sostenibilità ISG, perciò non abbiamo creato una direzione nuova, con il compito di predisporre un piano di sostenibilità triennale 2023-2025, centrale di raccordo tra il contratto e il piano industriale. Il bilancio di sostenibilità 2022 ha appena approvato dagli azionisti, illustra l'inizio di questo percorso e sarà nostra cura inviarvi copie, oppure, visto che comunque è molto alto, prestavo a guardare le foreste il link dove trovarlo sul sito Trasparenza RAI. Da cosa si parte per definire il piano triennale? Beh, come le migliori aziende che abbiamo guardato a livello globale, dall'ascolto e dai dati. Nei mesi scorsi abbiamo portato a termine un impegnativo processo di ascolto dei nostri stakeholders, istituzioni, utenti, dipendenti, CDA, terzo settore e alle organizzazioni media, dai sindacati agli organi di controllo. Una nutrita serie di incontri e una solida base dati che hanno permesso di definire quali sono i temi prioritari della sostenibilità della RAI, che qui vedete, questo è una cosa che è già pubblicato, oppla, scusate, ecco, questo è pubblicato nel bilancio di sostenibilità. Allora, qui potete vedere quali sono emerse, come le priorità, non le leggo tutto, sono in ordine dei voti, diciamo, ma sono, diciamo, i loro colori corrispondono se sono temi ambientali, verdi, sociali, gialli, oppure blu di governance o di impresa. Ci dà forza il fatto che questi temi prioritari sono uno specchio delle linee guida del contratto di servizio, ribadendo la centralità del piano di sostenibilità e mi soffermo brevemente su tre temi, la qualità dell'informazione, la parità di genere e l'inclusione dei giovani, che vedete lì. Per quanto riguarda la qualità dell'informazione, è il tema, come vedete, al numero uno prioritario di sostenibilità secondo i nostri stakeholders. Ritengo che proprio in risposta a questa chiara indicazione, ma anche in considerazione del dettato della Convenzione in vigore e delle linee guida del prossimo contratto di servizio, sia necessaria per RAE una rinnovata attenzione alla qualità dei propri prodotti informativi, in un'ottica di trasparenza e responsabilità, in linea con i servizi pubblici europei e tenendo conto del mutamento delle abitudini e bisogni informativi degli utenti e del dilagare di disinformazione e fake news, oltre alle potenziali evoluzioni normative dell'European Media Freedom Act. Il tema della qualità dell'informazione deve responsabilmente essere preso in carico a tutti i livelli aziendali a partire dallo stesso CDA, con il supporto anche degli strumenti di monitoraggio già previsti dal Qualitel al report dell'osservatorio di Pavia. Secondo tema prioritario, parità di genere, mi conoscete e sapete. È un'altra priorità emersa e si è avviato da tempo un percorso concreto, perché la parità di genere non è un tema mio, è uno dei pilastri su cui si fonda una società democratica e sostenibile, è un traguardo non ancora raggiunto dal nostro Paese, come evidenziano i dati, e lo grida il caso recentissimo e atroce di Giulia Tramontano, 39esimo femminicidio del 2023. A novembre 2021 abbiamo istituito un comitato interdirezionale, vuol dire tantissime direzioni, sulla gender equality e ha definito una strategia articolata su tre fronti, e qui ve li segnalo. Questi sono i tre fronti, uno interno a sinistra, cosiddetto off-screen, uno sul prodotto, cosiddetto on-screen, e uno sul territorio. Per quanto riguarda l'interno azienda, qui a sinistra, l'obiettivo della riduzione del gender gap, abbiamo ottenuto una significativa riduzione del gender gap sia in termini di carriere sia di retribuzione tra il 2021 e il 2022. Uno sforzo che purtroppo non è stato fatto nell'occasione delle ultime nomine, in particolare per la direzione delle testate giornalistiche, tutte al maschile. Uno strappo grave alla policy di genere aziendali, ratificate proprio dal CDA un anno fa. Per quanto riguarda invece il prodotto on-screen, per incrementare la presenza qualificata delle donne nelle trasmissioni, la RAE aderisce al progetto 50-50 50-50, che è nato nel 2017 nella BBC ed è ovunque in Europa, ed è fondamentalmente un automonitoraggio delle presenze femminili esperte nei programmi. Perciò ci si conta, non è che dobbiamo tutti arrivare al 50%, non è una tema di quote, è una tema di guardare oltre i soliti nomi, che ho chiesto espressamente all'amministratore delegato di far adottare nel 50% delle nostre trasmissioni di informazioni ad approfondimento. Il tenso fronte di azione, infine, è quello della RAE sul territorio, nostro patrimonio, dove le nostre sedi e testate regionali stanno promuovendo con le istituzioni locali l'iniziativa europea No Women No Panel, che aderisce e si impegna a garantire presenze femminili esperte negli eventi di comunicazione sul territorio e contarle e a trasmettere i dati sia alla RAE e al CNR per renderci conto di come stiamo andando. L'obiettivo entro il 2024 è coprire tutto il territorio italiano, come vedete abbiamo già stipolato o già firmato una serie di protocolli con la Regione Umbria, Comune e Provincia di Perugia Eterne, l'Università di Perugia, la Regione Puglia, il Comune e l'Università di Bari, eccetera. Per ultimo, ma non per ultimo, l'inclusione generazionale e l'attenzione ai giovani. Sono profondamente convinta, come Presidente della RAE personalmente, che il nostro bene futuro come azienda e come Paese dipenda dalla nostra capacità di mettere i giovani al centro di strategie e iniziative, dialogando con loro e aiutandole ad essere protagonisti del cambiamento. Il gruppo di lavoro giovani interdirezionale e aziendale è stato creato per questo, di nuovo partendo dai dati. A questo proposito vorrei condividere con voi tre slide, tre tavole sul consumo mediatico degli italiani. perciò adesso andiamo a vedere cosa succede tra i nostri utenti. Ok. Qui vedete, e non è una novità, che come dice il titolo, i giovani preferiscono il web. Sul grafico di sinistra, rotondo, vedete che oltre la metà dei giovani 15-34 anni non accede ai canali tv lineari nemmeno per un minuto al giorno. Vedete quel 54%, vuol dire che questo 54% di quella target dei 15-34 anni in Italia non accende neanche per un minuto la televisione durante il giorno. Dall'altro, le barre sulla destra, ci fanno vedere che i più giovani, perciò i 18-24, vedete la seconda barra lì, passano il 65% del loro tempo o due terzi sul web, cioè su contenuti digitali e non lineari, un'abitudine che è opposta degli adulti, perché vedete che il totale è esattamente l'opposto. Questo cosa ci dice? Che nell'allocare le risorse e creare i prodotti dobbiamo tenere in mente questa specificità e quasi dicotomia. nel prossimo slide confrontiamo un po' gli stessi dati, perciò vedete la tv web seconda colonna, la radio la terza colonna, in verde vedete il mercato, la platea e in blu vedete invece dai dati specifici per i nostri prodotti RAI e vedete che non solo il 46% dei giovani ritrovate non accendono, appunto solo il 46% accendono la televisione in generale in un giorno, ma per quanto riguarda i prodotti RAI sono il 29%, perciò non arriviamo alla media nazionale. Vi ricordo che l'età media di chi guarda i canali RAI è di 63 anni. Da un punto invece del web, perciò la colonna di mezzo, si vede che tutti i giovani ovviamente accedono almeno una volta al giorno al web, vedete il 100%, tutti i giovani. La nostra offerta digitale raggiunge invece il 26%, vuol dire che c'è un'ottima occasione di miglioramento. Sul dato della radio è un po' da prendere con le pinze, poiché è un dato dichiarato e non di consumo effettivo, perché si rilieva con un questionario telefonico, perciò non mi ci soffermo. Slide finale. Allora, questi mostrano i dati che nel mondo televisivo spesso non guardiamo, perché di solito si considerano solo gli attori televisivi tradizionali come RAI, Mediaset, La7, guardiamo lo share. Se invece consideriamo il tempo che gli italiani spendono sui video online, vediamo come nel 2019 l'attore principale era YouTube, vedete i dati sono del 2019 sopra. Vedete in questo quadrato, in questo grafico che Sky, Mediaset, ma anche Netflix sono molto piccoli. Il consumo della video online negli ultimi tre anni è fortemente cresciuto, quasi del 50% tra il 2019 e il 2022, perciò è esploso come sappiamo. Così come è cambiata la distribuzione, vedete TikTok che cosa ha fatto in solo tre anni, cresce del 460% e quota attuale oltre il 28% del tempo totale degli italiani. Arrivo alla conclusione. Le implicazioni sono importanti. Quando nel 2018 è stato stipulato l'ultimo contratto di servizio, TikTok non era ancora arrivato in Italia e YouTube era meno significativo. Chissà cosa ci aspetta nel 2028 al termine del prossimo contratto di servizio ed è questo che dobbiamo immaginare. Un contesto dunque velocissimo e sfidante che dobbiamo assolutamente affrontare se vogliamo intercettare i giovani. Fotografata questa situazione, il gruppo di lavoro dei giovani, ha tracciato una strategia di nuovo on-screen di prodotto e off-screen all'interno dell'azienda per impostare prodotti e azioni mirate e sarà cura del nuovo vertice, valutarle e renderle operative. Concludo. Dicendo che adeguare la nostra organizzazione ai tempi e alle modalità di fruizione dell'era digitale significa rispondere meglio ai bisogni dei cittadini senza lasciarne fuori nessuno, compreso i giovani. La RAI, per essere centrale nella vita degli italiani, deve attuare la radicale trasformazione in media company digitale. È a questo scopo essenziale portare a conclusione rapidamente il molto lavoro già fatto su questi tre piani di azione che vi ho fatto vedere, contratto di servizio, sostenibilità e industriale. Ma nello stabilire, attraverso il prossimo contratto di servizio, gli obiettivi e gli obblighi per la RAI dei prossimi cinque anni, bisogna avere cognizione e certezza delle risorse a disposizione, comprese risorse aggiuntive per un piano industriale di trasformazione digitale. Nessun paese europeo oggi fa meno di una media company finanziata pubblicamente. I servizi pubblici di alcuni paesi, in assenza di risorse aggiuntive, per finanziare un'inevitabile trasformazione digitale hanno dovuto fare scelte lucide, ma amare. Confidiamo nell'azionista e nel lavoro di questa consigliatura perché questo non sia necessario per la RAI. Infine, nel ringraziarvi per l'attenzione, faccio appello a questa Commissione perché aiuti l'azienda, esercitando la propria funzione di indirizzo strategico su progetti di ampio respiro e di impostazione generale a lungo termine, come quelli illustrati. Vi ringrazio. Grazie a lei, Presidente. Credo che questi dati siano molto preziosi per noi in vista del contratto di servizio e quindi delle osservazioni che potremmo chiaramente produrre nel nostro parere. Certamente il tema dei giovani e del digitale è un tema che ci sta a cuore e abbiamo già previsto anche l'audizione del Ministro dei Giovani affinché ci sia anche questo confronto. Lascerei la parola all'amministratore delegato Roberto Sergio. Grazie, Presidente, Vicepresidenti, Commissari. Ho accolto con grande piacere per il connaturato rispetto nei confronti dell'istituzione che rappresenta l'intera collettività nazionale la convocazione davanti a questa autorevole Commissione parlamentare, a soli pochi giorni di distanza dal mio insediamento come amministratore delegato di RAI. Come noto a questa Commissione, la RAI ha davanti a sé ravvicinati appuntamenti cruciali per il suo ridisegno e sviluppo che necessitano un'immediata azione progettuale ed operativa. Proprio a tal proposito, consentitemi di ringraziare, prima di procedere con la relazione, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Governo nella sua interezza, che hanno ritenuto di designarmi per l'incarico di amministratore delegato, perché sono un orgoglioso dipendente della RAI, che conosce l'azienda dal suo interno, che è ben consapevole dell'importanza del ruolo che la concessionaria riveste nel sistema sociale ed economico del nostro Paese e di quanto non possa essere consentito alcun indugio. L'ampiezza e la rilevanza strategica degli impegni che ci attendono, insieme al limitato tempo a disposizione, mi hanno indotto dunque a imprimere, in linea con le aspettative, un avvio a ritmo veloce. Abbiamo individuato alcune precondizioni per dare un rinnovato impulso alle attività a livello editoriale ed industriale. In primis, come misura organizzativa centrale, si è immediatamente riattivato, dopo ben sette anni, il comitato editoriale, la cabina di regia che ha come obiettivo il coordinamento del core business aziendale. Lo presiedo personalmente, affiancato dal direttore generale e dai responsabili delle direzioni di genere e dai direttori di marketing e distribuzione. Le nuove abitudini di consumo, la pluralità delle piattaforme, richiedono un'attenzione mirata alle preferenze del singolo utente, ma non viene meno, anzi ne viene rafforzata, la necessità che tutti i prodotti emessi o pubblicati con il marchio RAI e l'offerta nel suo complesso debbano rispettare i principi essenziali del servizio pubblico stabiliti dal nostro ordinamento nazionale, comunitario e di settore, e mi riferisco a quelli emanati dai BU. Il comitato garantisce la polifonia delle voci all'interno della cornice costituzionale, ciò che legittima RAI quale concessionario in senso oggettivo e soggettivo. Se infatti l'offerta sarà sempre più orientata a soddisfare le richieste della pluralità dei diversi pubblici, fino al singolo utente che ho citato prima, la concessionaria deve avere anche la capacità di tenerli assieme, collettivamente sulle proprie proposte, per sviluppare quel senso di comunità che fa crescere l'intero Paese con il ruolo essenziale che in questa logica riserveremo alle giovani generazioni. Il comitato sarà inoltre naturalmente coinvolto nelle scelte per la composizione dei palinsesti e le logiche di distribuzione per i modelli realizzativi del prodotto e le connesse ottimizzazioni, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi editoriali per condivire le analisi di scenario e quelle relative alle preferenze degli utenti per analizzare le performance ed elaborare le azioni correttivo. Dico a ritmo serrato, stiamo elaborando i palinsesti perché li presenteremo il 7 di luglio a Napoli, in omaggio ai 60 anni del centro di produzione TV. Aggiungo anche che il prossimo anno, nel 2024, festeggeremo i 70 anni di alla televisione e i 100 anni del servizio radiofonico e quindi del servizio pubblico. Più in generale, la modalità partecipativa è quella che intendo seguire. Verranno infatti costituiti per le differenze tematiche specifici gruppi di lavoro, affinché il patrimonio di professionalità, conoscenza ed esperienza nei settori di competenza orienti in modo efficace, coerente e concreto, la realizzazione degli obiettivi strategici di sviluppo che delineremo nel piano industriale nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Inoltre è stata immediata la ripresa del dialogo con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, che per effetto del rapporto di reciproca fiducia, instaurati in tanti anni di confronto e collaborazione, in particolare per quanto mi riguarda nella direzione radio, hanno deciso di revocare, a fronte di una piattaforma rivendicativa piuttosto consistente, lo sciopero convocato per fine maggio. Nessun cedimento, nessuno scambio, bensì la scelta responsabile di affrontare le tematiche sollevate in modo costruttivo e non di contrapposizione, perché il bene primario da tutelare è l'azienda, è la RAI, e l'appoggio di tutto il personale ad ogni livello è cruciale per il rilancio del servizio pubblico, con l'ambizione di creare una squadra coesa, la più ampia possibile, in cui ognuno, nella dignità del rispettivo ruolo, avverte la responsabilità e l'orgoglio di far parte del medesimo progetto. Immediata anche la conferma di alcuni dei programmi televisivi che attendevano da tempo il via libera consigliare per la stagione autunno-inverno 2023 e che necessitavano di un celere avvio produttivo per dare stabilità e certezza ai nostri partner del mercato audiovisivo e dagli artisti. Conferma anche di quei programmi che alcuni temevano potessero subire un qualche ostracismo, a dimostrazione che l'approccio che ci muove è tutto forché ideologico. Mi riferisco ovviamente all'annuncio di una professionista del calibro dell'annunziata, che spiace abbia voluto privare i cittadini utenti, che sono poi i nostri azionisti di ultima istanza, del suo punto di vista. Fosse stato necessario, ma non lo è stato, avremmo difeso il suo spazio. Non cito Fabio Fazio perché aveva deciso, prima che mi insediassi, di cimentarsi altrove. Posti questi preliminari tasselli, il passo successivo è stato quello di impostare la squadra editoriale e manageriale di vertice, più adatta a supportare il percorso di cambiamento che, con il sostegno della Presidente e il decisivo supporto del Direttore Generale Rosti, intendo mettere in atto. Scusatemi. I criteri guida per la selezione di queste figure apicali sono stati, e saranno per nomine che eventualmente eseguiranno, competenza, capacità manageriale, bilanciando continuità e innovazione. Sono stati quindi scelti professionisti validi, prestando attenzione a salvaguardare laddove rilevante per la posizione il pluralismo. Quest'ultima, il pluralismo, è una parola chiave e la pronuncio sapendo bene quanto sia cara a tutti voi e a coloro i quali abbiano attraversato le aule parlamentari e questa in particolare. Ma dobbiamo attenerci a questo criterio anche noi come RAI. RAI si muove in coerenza con la Costituzione solo se il servizio pubblico che svolge risulta orientato verso due fondamentali obiettivi. Da un lato, realizzare trasmissioni che rispondano all'esigenza di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da un'ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società e dall'altro garantire il diritto di accesso nella misura massima consentita dei mezzi tecnici. Più in particolare, i programmi culturali nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione devono rispecchiare la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero. Non sono parole mie. Le ho mutuate dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 225 del 74, datata, ma che rimane una delle più rilevanti in materia di pluralismo interno, il principio che si può declinare appunto come l'obbligo di dar voce a tutte o al maggior numero possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero, politiche, sociali e culturali presenti nella società. La RAI quindi deve essere di tutti, non può fare a meno di essere di tutti, pena l'incompatibilità con i dettami costituzionali e il venir meno della sua universalità. Ne consegue che per un verso non può escludere alcuno e per un altro verso non può essere appannaggio solo di alcuni. Ognuno potrà o vorrà vedere la bilancia pendere da una parte o dall'altra, ma proprio per questo sono previsti presidi esterni titolati a verificare eventuali concrete violazioni e a farvi porre rimedio. Penso all'autorità di regolamentazione indipendente, ma penso anche a un livello ancora più alto a questa stessa Commissione, ricordando che qualunque eventuale possibile disallineamento su singoli episodi deve fare i conti con una realtà molto articolata della RAI. Per la televisione, sette testate giornalistiche, tre canali generalisti, dodici canali semi generalisti e specializzati, un canale visual radio. Per la radio, una testata, tre canali generalisti, due canali tematici e sette canali digitali specializzati. Oltre alla vasta offerta digitale, disponibile sulle piattaforme Rayplay e Rayplay Sound e le grandi realizzazioni degli ultimi anni che dimostrano la vitalità dell'azienda. Una realtà che trasmette 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, sette giorni su sette e che è accessibile sempre e ovunque, da qualunque device, su ogni piattaforma. Una valutazione quindi estremamente complessa ed articolata. Per le nomine abbiamo seguito altri due criteri. La necessità di valorizzare adeguatamente valide risorse cessate da incarichi apicali, sanando situazioni che avrebbero potuto degenerare incontenziosi e lavorando per la costruzione di un percorso verso la parità di genere. Quest'ultimo è un tema, come avete già sentito dalla Presidente, particolarmente sensibile per la Rai come azienda, ma ancor più come servizio pubblico di interesse generale. Lo è per la Presidente. Soldi, ma lo è anche per me. delle attività portate avanti in questa direzione, innanzitutto le polisi on e off screen, approvate per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione, e sarà data ampia eco, da ultimo nel bilancio di sostenibilità 2022. Chiaramente ciò che conta è la tendenza, è il passo per ridurre il gap. Su entrambi i fronti sono stati fatti significativi avanzamenti e progressi, e posso assicurare che ne verranno operati altri nelle nomine che, quando verranno fatte, completeranno la squadra di vertice, sia nelle direzioni editoriali che in quelle di staff. Personalmente, a conferma di quanto sopra, condivido con voi che la direzione staff dell'amministratore delegato è femminile sia nel ruolo di direttrice che di vice direttrice. Mi auguro, ma in realtà ne sono certo, che prima possibile si debba entrare nel merito dei contenuti del contratto di servizio, sul quale siete chiamati ad esprimere il vostro parere consultivo. Per noi sarà anche importante a seguire e potervi illustrare, appena sarà completato l'iter di predisposizione e approvazione, i capisaldi del piano industriale. Stiamo lavorando su entrambi i documenti con grande impegno, perché voglio ripeterlo, dobbiamo dare una prospettiva chiara, sicura e rapida alla RAI. Appuntamenti e sottostanti sfide questi, tutti reconducibili alla pervasività nei diversi ambiti della transizione digitale. Innanzitutto, il nuovo contratto di servizio quinquennale e il correlato piano industriale triennale, cui si affianca, completando l'impianto dei documenti strategici di indirizzo, il piano di sostenibilità, anch'esso triennale, centrato sulle nuove priorità negli ambiti, il contratto di servizio è un tassello fondamentale, anche in termini temporali, perché è chiamato a definire con un articolato livello di dettagli i compiti di servizio pubblico che la concessionaria televisiva, radiofonica, e non dimentichiamolo perché ne costituirà sempre di più il fulcro multimediale, dovrà assolvere per adempiere la missione affidata alla RAI mediante la concessione decennale. Permettete una notazione, la concessione scada nel 2027, può apparire manchi non molti anni, ma dovremo focalizzarci, fra non molto, su questa scadenza, per arrivarci preparati. Ne deriva quindi che il contratto di servizio dal Ministero Vigilante e la RAI dovrà rispettare le previsioni del testo unico dei servizi audiovisivi, emendato a fine 2021, e mi soffermerò più avanti su una specifica disposizione, e della citata Convenzione, nonché essere coerente con le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi di servizio pubblico adottate nel luglio scorso di intesa tra lo stesso Ministero, all'epoca denominato dello sviluppo economico, e l'autorità di regolamentazione. Potremmo pertanto sostenere che si tratta di un contratto con una fondamentale attivicità che lo discosta dai comuni atti negoziali su cui tronerò più avanti e che per larga parte è vincolato, un compito comunque impegnativo perché occorre operare la traduzione delle linee guida in veri e propri obblighi con l'apparato di appropriata concretezza che li deve contraddistinguere per non rimanere generiche indicazioni. Ulteriore caposaldo che guiderà l'attività del gruppo RAI negli anni a venire rappresentalo dal piano industriale. La RAI posso sostenerlo con assoluta consapevolezza a un importante, solido ed efficace controllo di gestione fondato sulle previsioni annuali di budget e sul monitoraggio dell'andamento in corso d'anno sia delle principali variabili economiche finanziarie sia degli oggetti rappresentati nei singoli prodotti editoriali. La cultura della pianificazione pluriannale o meglio ancora della visione del pensiero strategico invece a volte anche per i vincoli e le limitazioni che ben conoscete deve essere sviluppata e quindi dobbiamo farlo con maggiore efficacia e determinazione. Questo noi ci accengiamo a fare riprendendo le avanzate e poderose attività istruttorie svolte dalle competenti direzioni nei mesi scorsi. Il piano verrà approvato previa condivisione con l'azionista MEF e con il Ministero delle Imprese del Made in Italy in relazione alle tempistiche per il perfezionalmento del contratto di servizio nei prossimi mesi. Al piano ci atterremo salvo gli adattamenti che si dovessero rendere necessari per effetto di imprevedibili o inattese evoluzioni del contesto esterno nella gestione delle attività aziendali e di gruppo. Quindi, in tempi brevi, il contratto di servizio è di pari passo in quanto strettamente dipendente il piano industriale con l'attività di elaborazione su due fronti che procedono parallelamente collegato ad entrambi con il piano di sostenibilità. vorrei avvicinarmi alla conclusione del mio intervento soffermandomi su alcuni essenziali aspetti di carattere economico-finanziario in senso ampio. Chiuderò poi con una riflessione più generale sul modo in cui con uno sforzo corale ed unitario potremmo rafforzare questa azienda che è veramente patrimonio del Paese. L'adeguatezza, la certezza e la stabilità su un orizzonte pluriannale delle risorse rappresentano requisiti irrinunciabili affinché RAI, in linea con il necessario completamento del processo di trasformazione in digital media company integrata, possa sostenere nei contenuti, nelle tecnologie di produzione e di distribuzione e nell'area immobiliare gli importanti e indifferibili investimenti orientati allo sviluppo della dimensione digitale. Sforzo a cui contribuirà la stessa RAI grazie alle risorse che potranno essere liberate dalle ulteriori misure di efficientamento che il gruppo realizzerà anche tramite iniziative in termini di innovazione. Infatti, solo l'adeguatezza, la certezza e la stabilità su un orizzonte pluriannale delle risorse potrà garantire l'esistenza di un servizio pubblico contemporaneo capace di affrontare le importanti attività che dapprime il legislatore e quindi l'esecutivo con il contratto di servizio pongono e porranno a carico di RAI con l'obiettivo di salvaguardarne il ruolo centrale anche nel nuovo panorama media digitale. Il tutto considerando che il contesto competitivo è sempre più caratterizzato da operatori per la gran parte internazionali dotati di forza finanziaria non comparabile con alcun altro operatore di servizio pubblico e non solo ispirati a mere logiche di profitto geograficamente lontani e disinteressati a curare e infatti proprio indispensabile avere cura la specificità dei singoli territori presidiati. La RAI è pertanto insostituibile e converrete con me l'unica che possa in stretta alleanza con le istituzioni garantire la valorizzazione delle specificità culturali del nostro Paese accompagnandoli lo sviluppo democratico sociale ed economico. Tenuto conto che in forza delle previsioni normative vigenti il contratto di servizio non definisce e sta qui la peculiarità di cui aveva accennato il corrispettivo spettante alla concessionaria a fronte delle attività ad essa delegate discostandosi così da un vero e proprio contratto sarà fondamentale come misura di salvaguardia che lo stesso stabilisca meccanismi e misure che consentano di riequilibrare l'alterazione della proporzionalità sancita dall'articolo 61 del TUSMA testo unico dei servizi di media audiovisivi che deve sussistere tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento e che viene ad evidenza dei conti separati che RAI è tenuta a predisporre con periodicità annuale solo tale proporzionalità ovvero copertura renderà concretamente possibile per la concessionaria dare effettiva esecuzione nei termini che saranno previsti alle obbligazioni a proprio carico senza mettere a rischio la sostenibilità medio-lungo termine della società e del gruppo in questo contesto non posso non ricordare che per quanto riguarda la pubblicità la seconda fonte di finanziamento del servizio pubblico i limiti di affollamento da sempre vincolati per effetto della scelta operata dal legislatore verso un sistema duale sono stati modificati nella modalità di calcolo e solo per la concessionaria pubblica resi più stringenti a partire dal 1 gennaio 2022 per poi essere ulteriormente compressi dal 1 gennaio 2023 pertanto le più ragionevoli aspettative relative al contributo dei ricavi pubblicitari per il finanziamento delle attività aziendali sono declinanti anche in relazione alle ben note dinamiche di frammentazione degli ascolti e di crescita vorticosa dei consumi digitali e social dove la forza degli operatori globali è inavvicinabile e assorbe la maggior parte dei ricavi per quanto riguarda invece la fonte primaria è caratteristica del servizio pubblico che procura quasi il 70% delle risorse complessive di gruppo mi limito a sottolineare alcuni dati incontrovertibili e noti il canone ordinario unitario in Italia è il più basso tra i principali paesi europei la percentuale del canone ordinario pagata dall'utente per il finanziamento del servizio pubblico sicuramente l'utente ignora che sta sostenendo anche attività extra RAI che arriva nelle casse della RAI è ancora lontana da quella dei principali servizi pubblici europei che possono fare affidamento su risorse pubbliche di gran lunga più elevate di quelle cumulative da canone e pubblicità su cui può contare la RAI desidero pertanto rappresentare con forza la necessità che qualora pur in assenza di cogenti e ineludibili disposizioni comunitarie si intendesse procedere a distanza di pochi anni dall'entrata in vigore del sistema del canone in bolletta ad una revisione del sistema di riscossione del canone ebbene in tale circostanza sarà indispensabile valutare con estrema attenzione l'efficacia della soluzione alternativa e i correlati rischi individuando preventivamente le misure di mitigazione la concessionaria del servizio pubblico infatti lo stesso sistema di media nazionali e ciò più che conta di più il sistema paese non può in alcun modo rischiare di regredire ricorrendo a modalità che possano caratterizzarsi come la precedente per un'evasione del tributo nell'ordine del 30% ricondotta ora a livelli fisiologici in linea con le migliori pratiche a livello europeo grazie al sistema in vigore con tutte le evidente conseguenze sulla continuità aziendale che non voglio neanche evocare ma che non potrebbe che significare per la ricordata correlazione tra compiti costi e finanziamento una revisione profonda del perimetro delle attività in definitiva sul presupposto di voler preservare un servizio pubblico generale rilevante di consentire l'evoluzione in corso verso una digital media company integrata adeguatezza certezza e stabilità in un orizzonte pluriannale delle risorse del canone rispetto alla missione affidata dovrebbero rimanere nella vostra valutazione caratteri non negoziabili di qualunque ipotetica nuova modalità di riscossione su questo punto vorrei aggiungere una considerazione la conferma dell'attuale sistema che ritengo assolutamente la preferire con la decisione per un nuovo modello non deve tardare la tempestività riduce i rischi di incertezza sia nei confronti dei cittadini sia nei confronti degli stakeholders a vario titolo coinvolti a partire tenendo conto della posizione finanziaria negativa netta di gruppo con le correlate scadenze nonché degli investimenti attesi dai nostri finanziatori per i quali le entrate da canone rappresentano un punto fermo in termini di garanzia sono arrivati alle conclusioni del mio intervento necessariamente programmatico ma confido possiate averne apprezzato anche il carattere pragmatico sono un dipendente di questa azienda da molti anni dopo esperienze manageriali in molti altri settori la vera distanza con le altre realtà economiche con quelle migliori perché la RAI è una grande azienda certo in termini dimensionali ma ancora più in termini di valori prodotti e competenze sta nella sua permanente sovraesposizione che spesso costringe a defocalizzarsi rispetto agli obiettivi aziendali sicuramente connaturata l'attività che svolgiamo sempre sul palcoscenico senza un'interruzione o una parentesi questa sovraesposizione nel nostro caso piuttosto che per la recensione ai programmi agli eventi che realizziamo ai dibattiti che stimoliamo è legata a questioni laterali non raramente anche strumentali capaci però di alimentare una narrazione negativa fortunatamente ancora non riflessa nelle indagini sulla nostra reputazione che come continuano a testare le indagini sviluppate annualmente da società indipendenti è più che positiva ritengo però importante non sottovalutare la capacità a lungo termine di queste narrazioni di incidere silenziosamente fino ad erodere in profondità le ragioni ontologiche alla base del servizio pubblico sono quindi convinto che la RAI insieme alle istituzioni al Parlamento al Governo debba impegnarsi in un progetto strategico e rifondativo di respiro culturale di legittimazione del servizio pubblico che deve porre al centro le nuove generazioni ognuno di noi in quest'aula è cresciuto con la RAI la percepisce come una presenza familiare fondamentale e ne sono certo l'apprezza come a livello generale testimoniano le varie metriche editoriali e di gradimento è però evidente che all'interno di un mercato ipercompetitivo le fasce anagrafiche più giovani sono attratte le nuove tipologie di offerta come abbiamo visto capaci di proporre diverse articolazioni dei contenuti che giovani ma sempre più pezzo anche i meno giovani sentono di volta in volta più vicine alla propria sensibilità al proprio stile di vita e di consumo e si spostano per inseguirle su piattaforme dove gli specifici prodotti trovano la migliore espressione collocazione e fruibilità in linea con i trend evolutivi del mercato la RAI è già impegnata a rinsaldare questo legame e a renderlo fondamentale anche per le generazioni digitali non solo attraverso potenziamenti tecnologici delle piattaforme il che per quanto necessario sarebbe riduttivo ma grazie proprio a un processo strutturato e rifondativo dei principi che qualificano l'unicità e sostanziano l'influenza positiva del servizio pubblico questo è un percorso che vorremmo accelerare attraverso la forza espressiva di storie e contenuti di qualità è un progetto ambizioso per il quale chiediamo la vostra adesione e il vostro convinto supporto grazie 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 all'amministratore delegato per l'articolata presentazione sicuramente ci ha dato molti spunti di riflessione e a nome della commissione ricordo che per noi il canone resta un tema centrale per questa commissione abbiamo già chiesto più volte l'audizione del ministro Giorgetti del quale però ahimè ancora aspettiamo disponibilità detto questo passo la parola al direttore generale Gianpaolo Rossi grazie presidente buongiorno commissari il cortese invito di questa commissione a pochi giorni dal mio insediamento il mio rientro in RAI come direttore generale mi consente di approfondire la tematica della trasformazione della nostra azienda da un broadcaster a una digital media company un'evoluzione necessaria quasi ineluttabile direi al pari delle continue richieste che pervengono da un pubblico giovane che reclama piattaforme ricche di un'offerta variegata e di plurali fruibilità questo intervento per non sovrapporsi ovviamente agli interventi della presidente e dell'amministratore delegato cercherà di focalizzare l'attenzione su un ruolo spesso sottovalutato del servizio pubblico e che la RAI svolge nel mercato dell'industria culturale italiana una premessa mi sembra però doverosa come sapete gli obiettivi strategici del contratto di servizio 2023-2028 che è in via di ridefinizione come è stato prima detto sono tra gli altri accelerare la trasformazione della RAI in una digital media company anche attraverso lo sviluppo delle piattaforme digitali e accrescere le competenze del pubblico in relazione alle nuove sfide della transizione ambientale e digitale la trasformazione digitale dei consumi sta determinando infatti un punto di rottura del mercato con i player tradizionali sempre più lontani dal pubblico più giovani in termini di target di modelli di fruizioni e anche di nuove semantiche narrative l'avvento dei player OTT degli over the top ha intensificato la competizione che ora ruota attorno al contenuto e alla capacità di intercettare il singolo utente offrendogli un'esperienza personalizzata e più che una rivoluzione l'arrivo degli over the top è una disintermediazione totale del sistema dei media e di questo i broadcaster tradizionali devono tenerne conto i nuovi contenuti e la competizione con i player digitali nativi stanno dunque spingendo i broadcaster tradizionali servizi pubblici ma anche broadcaster commerciali ad una radicale revisione del modello operativo dal momento che l'ingresso di rompente degli OTT ha aumentato la pressione competitiva e posso la realizzazione dei contenuti originali al centro delle strategie l'evoluzione dello scenario di media il processo di digitalizzazione le nuove modalità di fruizione dei contenuti hanno ovviamente modificato le abitudini degli utenti i contenuti distribuiti su più piattaforme sia lineari sia digitali dispositivi differenti stanno determinando un'affermazione quasi irreversibile degli OTT questi ultimi disponendo di budget di gran lunga superiori e di un mercato di riferimento globale hanno indebolito i broadcaster tradizionali che restano il medium principale solo per le fasce più adulte come è stato evidenziato negli interventi precedenti in particolare il target under 35 non utilizza più la tv lineare e gli editori che non riusciranno a essere competitivi in ambito digitale rischieranno seriamente di perdere rilevanza su ampie fasce della popolazione per i broadcaster pubblici questo significherebbe mettere in discussione una delle loro funzioni fondamentali l'universalità del servizio insomma la capacità di proporre contenuti rilevanti per ogni specifico utente sono circa 38 milioni coloro che usufruiscono mensilmente di offerte video in Italia di offerte video OTT questa è una fonte audio web RAI diventa più che mai fondamentale ma c'è un punto che secondo me vale la pena focalizzare sul ruolo importante che la RAI riveste credo che occorra in via preliminare sottolineare come il servizio pubblico radio televisivo e oggi anche multimediale rappresenti la prima industria culturale italiana comparto rilevante per la nostra economia la produzione culturale contribuisce alla costruzione della nostra realtà sociale dei nostri valori dei nostri significati condivisi del nostro immaginario e della nostra identità nazionale allo stesso tempo la RAI è il perno che sorregge la filiera industriale soprattutto incentrata sull'audiovisivo attraverso quattro direttrici produzione culturale promozione del territorio valorizzazione del patrimonio identitario della nazione tutela della lingua italiana l'industria dell'audiovisivo secondo gli ultimi dati APA è un'industria che raccoglie una forza lavoro di oltre 100.000 110.000 unità e produce ricavi per oltre 10 miliardi di euro questo significa che è una forza trainante della nostra economia in questo quadro si comprende quanto il ruolo del servizio pubblico diventi ancora più centrale nell'evoluzione dello scenario di media la RAI produce film serie televisive documentari programmi di divulgazione culturali prodotti di animazione e di fatto sostiene l'industria audiovisiva italiana nell'anno in corso qualche esempio la RAI ha stanziato circa 185 milioni di euro nella produzione di fiction televisive che coprono il 74% del volume orario complessivo dell'intera offerta superando le 400 ore anno tra prime time e day time nel periodo settembre 2022 maggio 2023 le reti RAI hanno trasmesso un totale di 99 serate di fiction in prima visione con risultati di ascolto che sono straordinari altro esempio nel biennio 2022 e 2023 RAI documentari che è una delle direzioni di più recente formazioni nel piano industriale che fu elaborato con le divisioni per genere assolvendo al mandato stabilito nel contratto di servizio ha contribuito alla realizzazione di oltre 100 programmi inserendosi con successo nel solco di un racconto capace di raggiungere un pubblico vasto ed universale tra l'altro come sapete il decreto legislativo numero 208 dell'8 novembre 2021 sancisce all'articolo 54 gli obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi media audiovisivi lineari e nel quadriennio 2018 2021 la RAI ha investito quasi 2 miliardi di euro nell'intera produzione audiovisiva solo nel 2021 gli investimenti sono stati pari a circa 526 milioni di cui 100 circa destinate ad opere cinematografiche di espressione originale italiana e circa 26 milioni in opere destinate al pubblico dei minori e il dato ovviamente non comprende opere di utilità immediata l'area intrattenimento di informazione e lo sport in questi anni la RAI ha confermato la sua leadership sul mercato nazionale grazie al presidio di tutte le piattaforme ciò però non è sufficiente a garantire centralità nel futuro a causa del limitato engagement con il pubblico giovane a un modello produttivo tradizionale a un limitato uso dei dati per la valorizzazione della comunicazione delle campagne e in questo contesto sarà determinante la definizione accurata degli obiettivi del prossimo contratto di servizio di un piano industriale sostenibile la riorganizzazione per generi che fu realizzata nella precedente consigliatura con l'amministratore delegato Fabrizio Salini fu fatta proprio con l'obiettivo di accentuare il valore editoriale della RAI e di collocare ancora di più il prodotto al centro dei processi in una logica transmediale una rivoluzione che ha agganciato il servizio pubblico italiano ai modelli più evoluti europei ma che richiede un ulteriore indirizzo verso uno sfruttamento delle sinergie cross piattaforma in questa logica lo segnalava prima l'amministratore delegato va segnalato secondo me come molto molto importante la novità introdotta in queste settimane dell'istituzione dei comitati editoriali per generi mai istituiti in questo anno e mezzo e che erano in realtà uno degli elementi fondamentali di snodo della rivoluzione dei generi pensare di fare le direzioni dei generi senza i comitati editoriali è stato un po' diciamo un controsenso e che rappresentano il luogo di elaborazione e confronto necessario per valorizzare al massimo le potenzialità del prodotto RAI questi comitati editoriali oggi stanno svolgendo tra l'altro un grande lavoro per accelerare la realizzazione dei palinsesti che noi ci siamo trovati incompiuti nel momento in cui siamo entrati in RAI qualche settimana fa ma è importante secondo me sottolineare oggi il ruolo che la RAI sta svolgendo sulle piattaforme di distribuzione non lineare la prospettiva di RAI come digital media company deve essere incentrata sul ruolo rafforzato e rinnovato di RAI Play faccio questo intervento e questa parte con grande attenzione per me perché provengo nella mia esperienza RAI proprio dal mondo del web avendo diciamo essendo entrato il RAI nella costruzione di quella che fu la prima digital factory della RAI incentrata nel ruolo di un'azienda che si chiamava RAI Net va rafforzato e rinnovato il ruolo di RAI Play come vera e propria OTT pubblica è chiaro presidio tecnologico per elaborazione di dati sviluppo di distribuzione non lineare e offerta di contenuti anche con nuovi modelli di consumo mettendo gli utenti al centro dell'offerta e comprendendo i loro bisogni sviluppando un'offerta distintiva e attrattiva diverse sono le sfide quella di conquistare quote di pubblico giovane è un problema di tutti i broadcaster tradizionali e di tutti i broadcaster pubblici un pubblico giovane nativo digitale che già privilegia piattaforme online e modalità di fruizione VOD valorizzando attraverso una comunicazione puntuale una user experience efficace la varietà della propria offerta gratuita o di library che abbiano contenuti esclusivi quella di aumentare la permanenza su RaiPlay del pubblico indirizzandolo anche verso library di proprio interesse oggi la RAI ha due importanti piattaforme che svolgono questa funzione RaiPlay e RaiPlay Sound lo ha citato prima l'amministratore delegato che possono considerarsi ormai una vera e propria piattaforma infinita RaiPlay con i suoi quasi 24 milioni di utenti registrati di cui uno su tre con meno di 35 anni i suoi quasi 6.000 titoli on demand che rappresentano il catalogo più consistente delle piattaforme digital in Italia con i suoi 17 canali in simulcas e una delle OTT più evolute e complete tra quelle dei servizi pubblici europei RaiPlay Sound che è la piattaforma podcast che è nata due anni fa con ormai già 230.000 utenti unici 5 milioni mensili di stream sia live che audio on demand centinaia di podcast originali programmi radio addirittura riduzioni audio di programmi tv una forma di fruizione alternativa che sta riscuotendo un grandissimo successo 200 audiolibri gratis che fanno della Rai l'unico editore in Italia a concedere gratuitamente questo prodotto rappresenta un esperimento di assoluta avanguardia e originalità miscelando il tutto e ragionando in prospettiva possiamo dire che la Rai è già avviata ad essere una digital media company a tutti gli effetti ma in considerazione delle veloci trasformazioni del mercato dovrà sempre più proporre un'offerta editoriale commerciale cross mediale capace di intercettare il pubblico ovunque si trovi in ogni momento e su qualsiasi device con le piattaforme OTT si possono raggiungere nuovi pubblici diffondere i propri contenuti senza limitarsi alla distribuzione tradizionale grazie alla possibilità di personalizzare i contenuti sulla base delle preferenze degli utenti le piattaforme OTT possono facilitare la connessione tra lo spettatore il territorio e i luoghi creando un forte legame di valore e di investimento culturale perfettamente in linea con la funzione di servizio pubblico in questa ottica mi piace riprendere un concetto espresso nel corso dell'audizione dello scorso maggio proprio dal presidente della Gcom la sorella che ha auspicato come la Rai diventi uno dei motori della digitalizzazione dell'Italia che favoriscano anche il consolidamento di una nuova cultura operando in questo senso un coordinamento con tutti i soggetti del settore radio televisivo e devo dire riprendendo un attimo prima l'amministratore delegato questa consapevolezza è una consapevolezza già interna all'azienda Rai l'avvertenza che abbiamo affrontato con i sindacati al momento del nostro insediamento ci siamo trovati di fronte a uno sciopero indetto mesi prima mai successo nella storia della Rai che coinvolgeva praticamente tutti i sindacati e le associazioni interne all'azienda in realtà è stata una grande discussione una grande opportunità per ragionare con i lavoratrici e i lavoratori della Rai proprio su questa funzione dell'azienda in una prospettiva alta non minima in una prospettiva di sviluppo del servizio pubblico di cui la consapevolezza all'interno dell'azienda c'è nel tempo della convergenza tecnologica dei nuovi linguaggi transmediali in cui è il consumatore a guidare l'evoluzione dell'industria audiovisiva con i suoi comportamenti e le sue scelte la Rai è il baricentro di questa trasformazione investire nella Rai e difendere il servizio pubblico significa rafforzare l'industria italiana ed investire nella cultura della nostra nazione la nostra scommessa è quella di essere all'altezza di questa sfida grazie ringrazio tutti gli auditi e allora io procederei in questo modo sicuramente un intervento per gruppo per iniziare lasciamo possibilità di risposta e poi facciamo un secondo giro se siete d'accordo e si è già prenotato il senatore Gasparri quindi se mi fate cenno segnaliamo tutti gli altri prego senatore buongiorno benvenuti auguri tralascio per risparmiare tempo diciamo le espressioni di circostanza ma insomma sono certo che l'opera di chi la prosegue e di chi come dire avendo una lunga vita nell'azienda assume responsabilità piccari sarà un'opera importante e impegnativa vado direttamente a dei rapidi quesiti ovviamente come dire i temi dell'informazione del pluralismo sono sempre oggetto di polemica e di discussione lei ha giustamente detto che alcuni protagonisti per loro scelta hanno fatto come dire appunto delle valutazioni diverse ma che lei che il vertice attuale della RAI ha confermato molte trasmissioni altre le avrebbe confermate se ci fossero state io vorrei però invitare a una maggiore trasparenza capisco che i temi della concorrenza fanno sì che a volte prestazioni artistiche non possono essere oggetto di divulgazioni nei dettagli economici per non avvantaggiare la concorrenza tema che più volte abbiamo affrontato in vigilanza però sono rimasto sorpreso dalla mancanza di trasparenza di alcuni eroi della trasparenza perché recentemente in un'ennesima interrogazione riguardante il programma che tempo che fa ho avuto una risposta evasiva avendo chiesto notizie sui compensi di alcuni ospiti autori e la RAI mi ha detto che sostanzialmente lo sapevo ma ho fatto la domanda provocatoria che soldi vengono dati a una società che organizza che poi fa quello che gli pare però siccome io difendo il canone come lei sa credo che la RAI abbia un plus di dovere della trasparenza quindi rinnoverò al nuovo vertice l'interrogazione per sapere se con la trasmissione come in altre come vengono i partiti perché poi molti che fanno critiche polemiche è bene che si sappia se collaborano con la RAI quanto con la RAI così a volte alcune critiche si capisce se sono solo ispirate da principi morali o anche da motivi pecuniari e personali seconda questione sempre legata a questa è ovvio che se vi subito deve essere pluralista come ha detto lei e non avere nessun tipo di censura che pensa quando poi personaggi come Baiardo fanno le interviste poi i programmi noti dei quali abbiamo discusso più volte qui poi trasmettono è stato citato prima TikTok dalla Presidente il video dello stesso Baiardo che su TikTok dice ho detto un sacco di fesserie a quelli di Report poi Report trasmette le fesserie tali definite da Baiardo e la dichiarazione di Baiardo che tali le definisce su TikTok così si è lavato la coscienza però quelle fesserie sono denigratorie danno descrizioni fantasiose e distragioni tragiche della vita italiana il servizio pubblico non ha un surplus anche qui di dovere prima di divulgare quelle che lo stesso personaggio definisce fesserie e l'ho citato per nome e cognome perché altri emittenti se ne sono serviti a pagamento la RAI pare di no almeno questo però come dire si mette tutto nel frullatore le fesserie tali qualificate dallo stesso diffusore o meno poi rapidissimamente io anche qui rinnoverò una questione che più volte è avanzata la RAI ha deciso di non pagare le opere musicali AFI FIMI società che rappresentano il mondo autoriale il mondo musicale contestano il mancato pagamento diciamo quello che chiamiamo in sintesi il diritto d'autore difendiamo il canone il ruolo del servizio pubblico ma a maggior ragione questo tipo di prestazioni vanno come dire remunerate secondo i principi normali non so se adesso in questa occasione potrà rispondere ma le sottopongo questa questione credo di avere già finito richiamo la sua attenzione sul tema di railway ne discuteremo l'abbiamo già discusso nella precedente legislatura è un patrimonio importante perché senza torri di trasmissioni non c'è non c'è la RAI poi alla fine perché i contenuti sono fondamentali ma se non viaggiano e quindi richiamo la sua attenzione così come sulle stazioni le onde medie è opportuno smantellarle del tutto possono avere una funzione residuale parlo per la radio in particolare ci sarebbero molte altre cose ma mi limito a fare gli auguri e a dire che ha fatto bene a parlare del canone del quale si fa prima a parlarne male che a farne a meno perché c'è poi un equilibrio anche penso ai giornali a tutto l'equilibrio economico la pubblicità che è una risorsa complicata l'abolizione del canone rischia di ammazzare i giornali più di quanto non possa fare danni alla RAI grazie il senatore Bergesio grazie presidente grazie naturalmente al presidente all'amministratore delegato al direttore generale per questa audizione importante auguri di buon lavoro soprattutto ai due nuovi incarichi importanti in RAI io direi che quello che abbiamo ascoltato prima a partire dal discorso del piano immobiliare presidente diventa fondamentale perché questo dobbiamo a mio avviso già il lavoro che fece Ceccatto fino ad oggi io credo che sia importante portarlo avanti ho capito che c'è una spinta propulsiva messo insieme questo al contratto di servizio e sicuramente al tema del piano industriale che avrà una sua evoluzione importante nei prossimi giorni il tema poi che riguarda noi più specifico arriva qualche domanda innanzitutto le produzioni esterne cioè da un punto di vista finanziario la RAI ha dichiarato che dei 650 milioni di debito consolidati previsti dal budget il bilancio per il 2022 concluderà sotto la soglia ma per il 2023 crescerà fino al limite e chiuderà con un leggero avanzo le organizzazioni sindacali nell'audizione che abbiamo avuto qui il 26 maggio hanno dato un giudizio negativo riguardo all'aumento del debito con giustificandolo anche un utilizzo snodato e costoso degli appalti e delle produzioni esterne che apre la RAI a conquiste di imprese esterne in alcuni casi sappiamo che importanti agenti subappaltano parte dei loro incarichi a professionisti a loro comunque riferibili al fine di aggirare i controlli dell'azienda a proposito della trasparenza che diceva prima anche il senatore Gasparri quali sono gli intendimenti vostri su questo punto dal punto di vista gestionale circa il contenimento delle produzioni esterne a favore di quelle interne il tema delle spese legali abbiamo letto in questi giorni che nel bilancio dell'azienda il fondo rischi per controversie legali ammonta 57 milioni di euro ed accoglie la stima prudenziale e prognostica degli oneri conseguenti ai procedimenti giudiziari in corso in cui la società è avvio titolo coinvolta in particolare il fondo suddivide gli importi in due parti uno le spese legali che sono 30 milioni di euro in controversi civili 22 milioni di euro in controversi in materia gius lavorista quali azioni intendete realizzare alla fine di una maggiore razionalizzazione delle spese legali anche introducendo la possibilità di una maggior turnazione rispetto ai professionisti scelti dalle aziende poi c'è il tema delle sedie estere noi nella scorsa legislatura abbiamo già verificato è stato oggetto una serie di richieste di verifica da parte di molti gruppi in questa commissione come noto l'informazione è uno dei compiti fondamentali assegnato al servizio pubblico radio televisivo avete ripetuto anche voi la prima azienda culturale del paese in quest'ottica l'esistenza degli uffici di corrispondenza consente di raccogliere informazioni puntuali soprattutto sui luoghi dove si verificano avventimenti istituzionali cronaca sportiva eccetera le sedi RAI nel mondo sono 11 e vi lavorano 22 corrispondenti altre figure professionali contrattualizzate direttamente dalla RAI per le 11 sedi oltre ai giornalisti lavorano complessivamente circa 90 soggetti contrattualizzati che vanno da coloro che producono per le news agli archivisti fino al servizio di pulizia il budget complessivo annuale per le sedi estere è di poco inferiore ai 5 milioni di euro io vorrei sapere noi vorremmo sapere quali azioni intendete attuare al fine di una eventuale razionalizzazione di queste spese e di una maggiore implementazione delle notizie che arrivano dalle sedi estere perché a volte si fa riferimento magari a delle grandi capitali e tutto quello che appare attorno che avviene attorno lo conosciamo attraverso altri organi di informazione poi c'è il tema delle sedi regionali abbiamo visto che era stato nella scorsa legislatura avevamo diciamo siamo venuti a conoscenza del taglio dell'edizione dell'ottuna della TGR che non è una cosa così accettabile anche perché manca un'informazione a partire dalle otto di sera fino al giorno successivo tardo e quale presidio rinunciabile a un servizio pubblico di informazione di prossimità che credo che sia da valorizzare che cosa avete intenzione di fare e soprattutto sulle sedi produttive regionali qual è il progetto di implementazione il tema poi mi richiamo nella presentazione la Presidente ha messo tra gli aspetti prioritari la qualità dell'informazione e questo noi ci crediamo in modo molto importante la RAI con un comunicato stampa del 4 aprile 2022 informava che dal mese di settembre RAI 3 avrebbe mandato in onda una striscia quotidiana di informazione curata e condotta da Marco da Milano della durata di 10 minuti la scelta di affidare un programma di informazione a un giornalista esterno è subito apparsa in provi da sotto molteplici aspetti fu segnalata anche in questa commissione se questa commissione ha il valore di cui ripeteva prima sia il presidente che l'amministratore delegato innanzitutto sotto il profilo dell'opportunità essendo la scelta caduta su un professionista politicamente schierato a cui viene affidata una striscia informativa giornaliera senza un contradditorio in un periodo che ha coinciso anche con le elezioni politiche tra l'altro vorremmo ricordare che l'agicon con delibera 335 ha sanzionato la RAI ordinando di trasmettere all'inizio del programma il cavallo e la torre un messaggio in cui il conduttore comunicasse che non era stato assicurato il rispetto dei principi di pluralismo obiettività competenza correttezza lealtà imparzialità dell'informazione nel corso medesimo programma andato in onda il 19 settembre si è trattato di una prima sanzione di questo genere inflitta alla RAI questa era stata la prima in assoluto si chiede noi vorremmo sapere qual è stato l'impatto economico della trasmissione anche in termini di rendita pubblicitaria ma soprattutto noi chiediamo un equilibrio informativo perché prima la Presidente ci ha spiegato e giustamente con questi dati ci convince anche che dai 15 ai 34 anni il 54% non guarda nemmeno un minuto al giorno la televisione allora dobbiamo essere molto chiari anche in termini di pubblico ma di servizio pubblico al cittadino che paga comunque questo canone il canone è un punto di pil nel nostro paese io credo che capire bene la destinazione di questo canone e dargli un risvolto nella comunicazione ho capito che la Presidente della Vigilanza dice o ho letto un'intervista di ieri della Vigilanza o rimane in bolletto una fiscalità alternativa ma se diventa un balzello fiscale se diventa un nonere questo canone allora cambiamo completamente tema e parliamo di un'altra cosa però se deve essere finalizzato delle azioni concrete reali attraverso l'informazione corretta attraverso il pluralismo attraverso la libertà di informazione attraverso un confronto che sia applicato a tutte le trasmissioni televisive e se vogliamo portare questi giovani ad ascoltare la televisione sicuramente qualche azione importante diceva prima anche condivido quello che poi vedremo naturalmente l'evoluzione di Gian Paolo Rossi questo progetto di trasformazione in digital media company che secondo noi è sicuramente importante grazie Presidente grazie l'onorevole Bonelli vi chiedo però di essere un attimino più sintetici gentilmente sì grazie Presidente buongiorno all'amministratore delegato alla Presidente al Direttore Generale prima lei amministratore Sergio ha ringraziato giustamente il Governo per avervi dato fiducia a guidare un'importante azienda qual è la RAI ma lei ha avuto modo di precisare devo dire pure abbastanza chiaramente ma io ci devo assolutamente ritornare il Vice Premier il Vice Presidente del Consiglio di questo Governo ha espressamente detto più di una volta che tra i suoi obiettivi è quello di eliminare il canone ora lei ha risposto quindi ha anticipato già la mia domanda però io devo dirle questo ritenete di dover chiedere di arrivare a un chiarimento da questo punto di vista anche perché come potrebbe sopravvivere la RAI in assenza di abbonamento oppure quali sarebbero le possibili alternative anche perché dato e dimostrato che l'introduzione di una fiscalità generale al sostegno della RAI subordinerebbe sempre di più l'azione della RAI alla sottomissione dell'azione del Governo perché questo è di tutta evidenza quindi questo è un passaggio che devo dire deve essere essenziale anche per il proseguio dell'azione serena della vostra programmazione di quello che intende fare il Governo e trovo veramente devo dire mi lascio estremamente basito la comunicazione che la Presidente della Commissione di Vigilanza ci ha dato della difficoltà che il Governo venga qua a chiarire mi riferisco ovviamente al Ministro Giorgetti a chiarire su un aspetto così fondamentale nella necessità di determinare una pianificazione in questo senso vengo a un tema che è stato introdotto e che mi ha preceduto dico il collega ha introdotto il tema del pluralismo qui parlano i dati e su questo vorremmo avere il gruppo che rappresento vorrebbe avere una risposta puntuale i dati dell'osservatorio di Pavia sono chiari cioè i dati dell'osservatorio di Pavia indicano che la rappresentanza in video in voce da parte del Governo compresa la maggioranza arrivano a punte che superano dell'80% detto questo c'è un problema molto chiario dell'equilibrio del servizio informativo nella pluralità delle voci e c'è anche un aspetto su cui avremo anche modo successivamente di tornarci vedremo se nel contratto di servizio questo sarà possibile perché lei ben sa me lo insegnava Marco Pannella quando faceva le sue storiche battaglie che dipende dove vai a volte se vai in un'area di fascia di primo ascolto penso al Tg1 serale è un conto è un Tg1 delle 7 del mattino dove la gente ancora si deve svegliare oppure non sa certamente a guardare la televisione cioè la necessità di dare quindi un equilibrio informativo e un equilibrio nel pluralismo ovviamente sapendo che in questo paese c'è una maggioranza c'è un governo e c'è un'opposizione con i giusti equilibri ma ovviamente non eccedendo come poco fa l'amministratore delegato ci diceva quindi da questo punto di vista vorrei sapere se c'è ci sarà un cambiamento da parte della RAI in questo aspetto cioè la pluralità delle voci è un elemento importante in tutto l'arco delle fasce orarie della giornata sulla parità di genere la Presidente ha introdotto un elemento estremamente importante è evidente che le prime nomine scusatemi non vanno in questa direzione nella maniera più assoluta lei dice che ci sarà un riequilibrio lo auspichiamo tutti ma diciamo le prime indicazioni vanno certamente nella direzione opposta sul tema del palinsesso lei ha detto che contrariamente alle voci le polemiche che si sono sollevate i programmi verranno riconfermati le hanci ha detto che il 7 di luglio a Napoli verrà presentato il palinsesto della RAI vorrei sapere se può anticiparci se alcune ad esempio trasmissioni che sono trasmissioni di inchiesta importanti che fanno anche share che fanno anche ascolto che portano quindi diciamo pubblicità nei programmi saranno confermate prima la presidente soldi parlava della necessità di conquistare un pubblico che oggi sta su altri canali sta sui social ecco i giovani ad esempio sono molto attratti da questioni fondamentali che sul pione culturale guardano il tema della transizione digitale il tema della transizione ecologica di un vivere diverso cioè una sensibilità marcata ebbene vorrei sapere se è nella condizione di dirmelo spero di sì se alcuni programmi sono previsti nella programmazione autunno-invernale penso ad esempio a un programma come ad esempio indovina chi viene a cena che parla a un pubblico ovviamente fa discutere ma quando si fa giornalismo se non fai discutere vuol dire che non fai giornalismo vado a concludere presidente e se può dire ad esempio sulle trasmissioni sulle trasmissioni su cui lì prima parlava mezz'ora o che tempo che fa avete già previsto diciamo le sostituzioni nelle conduzioni delle stesse grazie l'onorevole caro tenuto buongiorno e grazie a tutti allora innanzitutto vorrei chiedere ai qui presenti quale sia la divisione dei ruoli delle responsabilità cioè cosa farà il dottor Sergio e cosa farà il dottor Rossi io sono preoccupato come loro per quanto riguarda anzi forse più di loro per quanto riguarda il futuro dell'azienda dal momento che c'è un leader di questa maggioranza che vuole chiaramente la sua smobilitazione visto che vuole abolire il canone e mi chiedo quindi se avete già immaginato una previsione di spesa se avrete nei bilanci pluriennali e visto che noi al momento non ci si riesce se avete voi avuto interlocuzioni con il ministro Giorgetti per quanto riguarda i palinzesti mi accodo al collega che mi ha preceduto vorrei sapere in particolare se il report sarà confermato a lunedì visto che i risultati eccellenti che ha avuto come trasmissione e noi riteniamo francamente che sarebbe un rischio spostarlo da quel giorno e poi rispetto invece alle furiuscite di Gramellini annunziata vorrevo sapere se erano ormai sancite se cambieranno conduttori o se cambieranno anche i programmi nel caso e secondo quali criteri saranno scelti infine volevo sapere se il tema dell'ambiente cioè la sua salvaguardia il contrasto al cambiamento climatico che sono tra l'altro all'interno del contratto di servizio nei punti di partenza noi abbiamo visto i dati agico ma francamente siamo un po' preoccupati perché nella presenza dei telegiornali sono veramente molto al di sotto dello sport ad esempio per fare un esempio pregnante sono mi pare il 3% del TG1 e TG2 e l'1% di TG3 e Rai News 24 e allora mi permettevo di suggerire di intervenire per dare almeno pari spazio rispetto allo sport e questo è quanto grazie grazie l'onorevole Lupi beh intanto grazie a tutti e buon lavoro i temi affrontati dalle relazioni del presidente dell'amministratore legato del direttore regionale sono tanti e quindi credo che avremo l'occasione e l'opportunità per ritornare puntualmente su alcune grandi questioni mi sembra correttamente in questa prima fase è stato dato un quadro generale ed il nostro primo intervento è proprio su questo molto sinteticamente la prima osservazione sul carattere di servizio pubblico che è legato poi al tema delle risorse finale che affronteremo e da questo punto di vista io credo che non bisogna mai ridurre il carattere di servizio pubblico ad un unico elemento dal nostro punto di vista mi piacerebbe capire come questo si sviluppa poi nel piano editoriale nel piano industriale nella programmazione dei palinsesti è evidente che c'è un grande tema di informazione su questo la RAI negli anni precedenti ha fatto un grande sforzo e i risultati ci sono per esempio investire sul canale on news per esempio investire sulla formazione all'accesso dei giovani giornalisti la RAI deve continuare ad essere un grande laboratorio di formazione di grandi professionisti nel settore dell'informazione come in tutti gli altri settori quanto si sta investendo se nel piano industriale questo rimane uno degli asset fondamentali quello del pluralismo e dal nostro punto di vista sottolineo che innanzitutto il pluralismo non è solo identificato nel pluralismo politico che è fondamentale perché i partiti e i gruppi parlamentari rappresentano l'Italia nel loro luogo ma innanzitutto rappresentato nel pluralismo culturale io credo che il pluralismo culturale sia un tema trasversale e non riguarda solo l'informazione riguarda tutto il contenuto editoriale della RAI in questi anni noi abbiamo fatto questa commissione che ho frequentato tante volte messo molto molta attenzione sul pluralismo politico giustamente tante cose avrebbe anche il nostro gruppo da dire nella rappresentazione per esempio di una maggioranza che è plurale non è solo a tre ma a quattro ma secondo me abbiamo trascurato il pluralismo culturale quali strumenti avete e abbiamo per individuare come questo pluralismo culturale si traduce è fondamentale ma l'Italia è a colori l'Italia è plurale l'Italia è fatta di minoranze culturali ma anche di tradizioni anche di identità tante volte vediamo per esempio trasversalmente nella produzione editoriale come questo pluralismo culturale che deve essere raccontato rischia di diventare un mono una mono rappresentazione potremmo fare degli esempi però a me sta a cuore questa cosa sta a cuore questa cosa nel raccontare un'Italia viva nel raccontare un'Italia vera ultimo tema su questa vicenda l'evoluzione tra l'altro dei media company quindi del web eccetera pone uno dei temi anche ancora di attenzione sul futuro come misurare per esempio la correttezza dell'informazione che ha strumenti totalmente nuovi non a caso le fake news si diffondono non sul mezzo tradizionale ma si diffondono sul web e che cosa vuol dire la correttezza di informazione come ci si sta attrezzando su questo l'esempio che ha fatto prima il senatore Gasparri è incredibile no? si può essere corretti nello smentire utilizzando un mezzo ma non ritornando sull'altro ultima osservazione mi spiace avrei tante altre cose ma è quella legata all'alfabetizzazione la RAI ha svolto nel dopoguerra una grande funzione di alfabetizzazione del paese il maestro Manzi ce lo ricordiamo tutti oggi c'è una nuova alfabetizzazione che deve svolgere tra l'altro proprio per i dati che il presidente Sordi ha dato ci ha comunicato se è vero che è un punto di debolezza quello dell'età media che vede la RAI tradizionale altrettanto è una responsabilità perché la nuova sfida è l'alfabetizzazione digitale noi non possiamo trascurare questa alfabetizzazione digitale vi parla un giurassico come dice mio figlio che è fondamentale quanto l'alfabetizzazione del dopoguerra cosa sta mettendo in essere la RAI perché ritorni ad essere questo tipo di strumento fondamentale perché il servizio pubblico lo dico anche agli altri colleghi è una riflessione che dobbiamo fare su questi temi poi ci sta report tutte le cose di cui discuteremo la scelta eccetera sull'industria dell'audiovisivo mi piacerebbe capire siccome credo che sia un tema della filiera fondamentale anche quali sono i criteri con cui si valorizza la nostra industria sui giovani sul pluralismo delle scelte ma avremo occasione ovviamente di approfondire secondo me lei dottor Rossi ha poi un compito fondamentale se ho ben capito anche per la relazione che ha fatto sul tema della digital media company ma ne parleremo ultima osservazione domanda sul tema delle risorse io credo che ci sono due elementi intanto mi preoccupa moltissimo questo indebitamento stiamo cercando il bilancio il numero di bilanci perché un'azienda che ha 580 milioni di indebitamento che si appresta a farne 650 rispetto ad entrate che sono innanzitutto fondamentali qualunque persona che conosce un po' i bilanci aziendali sa che dipendono innanzitutto prima ancora da entrate sul mercato da entrate sul canone ovviamente questo dovrebbe premesso che noi siamo per il canone Rai per il recupero per proseguire anche secondo un'intuizione giusta che è stata quella del canone in bolletta però sul tema delle risorse io ho questo tipo di domanda la Rai deve stare sul mercato la mia impressione è che per stare sul mercato la Rai avendo dei vincoli abbia trovato delle scorciatoie che poi hanno creato degli elementi distorsivi per stare sul mercato tu devi non solo devi anche avere capacità di attrarre risorse umane devi competere con i tuoi competitor oggi non ci sono più i competitor tradizionali di una volta ci sono i competitor che guardano al mondo con capitali enormi ho concluso Presidente ho capito ma se ci sono dei vincoli per stare sul mercato alla fine rischiamo di essere zoppi questo è un tema che affrontate o no cioè noi abbiamo introdotto dei limiti alla Rai per esigenze diverse limiti sui compensi limiti sulla possibilità di ma attenzione che questi limiti rischiano di non permettere alla Rai di poter competere di acquisire professionalità per cui poi alla fine si prende per acquisire un giornalista uno esterno gli si fa un contratto esterno così lui prende X mentre tutti i dipendenti interni sono tutti limitati è una cosa che fa morire l'azienda perché vuol dire non investire sul futuro delle aziende allora questo è un tema che credo nei prossimi anni vado affrontato chiedo scusa della lunghezza ma la passione mi ha preso grazie l'onorevole Montaruli grazie presidente io ringrazio il consiglio d'amministrazione oggi qui presente e ringrazio anche per alcuni spunti che ci hanno dato in particolare ho apprezzato tantissimo la parte sui palinsesti nella quale si dichiara amministratore delegato un approccio non ideologico e su questo le faccio il mio ringraziamento perché penso che dai palinsesti ci sia il tema centrale poi effettivo del rilancio della RAI su cui però è necessario fare una riflessione a mio avviso anche sulle fuoriuscite senza nasconderci dietro un dito che ci sono state eccellenti perché pongono al centro da un lato il tema dei costi e dall'altro il tema del pluralismo sul tema dei costi io ripercorro la necessità di una trasparenza anche rispetto ai compensi e se questa non è possibile per ragioni chiedo scusa cade per ragioni di privacy di rispetto delle varie professionalità però l'assenza di questa informazione non ci permette neanche di capire quanto eventualmente si risparmia dalla mancata presenza di alcuni personaggi proprio sull'organizzazione dei palinsesti o se vogliamo toccare la questione di genere anch'io ce l'ho a cuore però mi permetta presidente ce l'ho a cuore affrontandola non con un ragionamento di quote ma un ragionamento di merito e ragionando proprio sul tema del merito le do uno spunto così magari mi viene incontro proprio sulla ricerca della necessità di definire questi compensi se proprio non potete indicarli nella cifra almeno sul gender gap sulla differenza magari di eventuali stipendi tra chi è fuoriuscito magari lì ci può dare uno spunto in più per capire e avvicinarci alle cifre di cui vorremmo sentire parlare dall'altro però c'è il tema del pluralismo perché quando un un autorevole giornalista decide di andare via legittimamente persona apprezzata professionista però dichiarando che l'addio avviene perché non si condivide quello che si dice non si condivide i metodi e i contenuti del governo mi viene anche però da pensare che si rinuncia ad essere presidio di si è rinunciato ad essere presidio dell'opposizione quando si è lavorato in presenza di un governo che magari era fine da un punto di vista ideologico o di idee e questo mi pone un problema del pluralismo non tanto nella prospettiva futura ma della RAI che avete ereditato e su cui dovete costruire i nuovi palinsesti quello che è certo è che noi auspichiamo una riorganizzazione che però ovviamente deve avvenire già solo per ragioni di tempi in maniera celere e su cui permettetemi la battuta certamente bisogna pensare ad un rinnovo generazionale non solo del pubblico ma forse guardando al pubblico anche delle persone che ci sono all'interno della RAI e che magari ci sono e che non sono potute essere in passato i volti conosciuti dal pubblico più giovane perché io credo che anche se si facesse questa riflessione sui giovani non soltanto in quanto utenti finali ma come protagonisti che la RAI la creano e la rappresentano all'esterno forse un pubblico under 63 la RAI lo avrebbe ed è quello che noi auspichiamo e quindi la mia domanda finale è come intendete poi a fronte di queste oggettive difficoltà che voi ereditate riorganizzare i palinsesti perché sia più attrattiva sul punto di vista dei costi dal punto di vista del pluralismo e dal punto di vista anche del ricambio generazionale grazie l'onorevole Graziano grazie presidente grazie ai vertici della RAI per essere oggi qui parto da alcune cose che mi avviso ha detto la presidente soldi io penso che il tema fondamentale sia piano industriale contratto di servizio e di conseguenza canone o meglio io rovescerei il tema perché il punto di fondo è che se noi non abbiamo la certezza cioè da quello che è l'audizione che stamattina è stata fatta dal presidente della RAI dall'amministratore delegato e dal direttore generale di fatti se c'è un fil rouge che unisce questa audizione nei vertici della RAI è che se cambia la sola modalità di riscossione del canone non l'azzeramento ma se cambia la sola modalità di riscossione sostanzialmente la RAI è in netta difficoltà perché ha un problema molto serio che riguarda le banche a questo punto perché ha un indebitamento di 580 milioni e su questo io vorrei anche chiedere qual è il rapporto che sostanzialmente l'azienda ha rispetto a questa condizione e qual è il dato che sostanzialmente si realizza se ci sono novità specifiche rispetto al ministero dell'economia perché da quello che capisco siete in attesa di quello che è il tema per costruire il piano industriale perché ovviamente un piano industriale non si può costruire senza la certezza delle risorse e se avete risposte e se ci sono interlocuzioni a mio avviso è molto grave che il ministro dell'economia ancora non abbia comunicato al presidente Floridia la data per la quale possa essere audita vista la difficoltà in cui si trova il servizio pubblico e un'azienda di questo tipo quindi a mio avviso molto molto complicato vengo ad alcuni temi di fondo io penso che le slide che rappresentano il tempo di utilizzo in particolare dei giovani e in particolare il pubblico che sono un'unner meglio app 63 anni e quindi non riuscire a prendere un pubblico unner è il vero tema di sviluppo del futuro cioè ho apprezzato il ragionamento del direttore generale quando dice dobbiamo trasformarla in digital media company questo è il punto a mio avviso più importante il tema è come e in quale tempo questa operazione possa essere fatta visto che i player sul mercato sono tanti abbiamo visto quella slide che ho fotografato cioè sostanzialmente il tempo di utilizzo di quello che è la condizione per la quale si sviluppano le attività audiovisive di ognuno di noi dei cittadini in generale sul pluralismo e sulla qualità dell'informazione io vi chiederei qual è la modalità perché io penso che ci sia un'emergenza da questo punto di vista cioè noi dobbiamo riuscire e forse bisognerebbe vi chiedo se voi avete immaginato a fare contabilità separate che riguardano i canali che riguardano i programmi e ovviamente i tg perché da un certo punto di vista non solo c'è un pesante sbilanciamento di quelle che sono le presenze sia in video che in audio tra quello che era storicamente chiamiamolo un terzo un terzo e un terzo cioè tra maggioranza governo e opposizione in realtà c'è un pesante sbilanciamento lo testimoniano diciamo l'osservatorio di Pavia non è che lo diciamo noi vi chiedo quali sono le correzioni che intende dare questa nuova governanza dell'azienda da questo punto di vista perché a mio avviso vedete il tema economico di quanto costa un artista a me interessa per tutti quindi anzi vi aggiungo che chiederei l'audizione anche della dottorista annunziata perché è utile però chiedo anche un artista quanto quanto sostanzialmente o un programma ha portato in termini di pubblicità per questo chiedo che a mio avviso se voi siete intenzionati a capire se si può fare una contabilità separata per ogni programma in modo che vediamo share pubblicità e costi e nella sostanza qualità dell'informazione se c'è una modalità di parametri che state immaginando perché questo potrebbe essere una cosa utile a mio avviso per mettere l'azienda in una condizione di concorrenza e per poter costruire una condizione di quel tipo quali sono per efficientare il servizio pubblico e soprattutto per ridurre i costi le idee che ha su risorse interne contratti esterni appalti che sono le prime cose che già ci sono nel contratto di servizio attualmente in carica attualmente vigente c'è un contratto di servizio che è del 2018 sostanzialmente e qual è la strategia per la quale sostanzialmente si vuole attivare è stato anche detto dall'amministratore delegato che sul contratto di servizio scusate sull'accordo sindacale c'è stato un accordo sindacale e vorrei capire cosa prevede nella sostanza l'accordo sindacale ma soprattutto vorrei sapere sul contratto scaduto se c'è un rinnovo perché pongono temi molto molto seri sulla vicenda che riguarda il tema dei palinzesti del pluralismo Presidente capisco gli altri si sono presi il tempo mi faccia fare il mio lavoro perché purtroppo altrimenti lo stabiliamo all'inizio del tempo ognuno gli diamo tre minuti come in Europa io mi adeguo diciamo in modo pedissimo no no lo so lo so però siccome non è che tutti i giorni prendiamo il vertice RAI è la prima volta che viene quindi diciamo ognuno di noi deve dirci quello che ritiene io penso che ci sia un tema di fondo in particolare noi abbiamo posto il tema di RAI News voglio dire all'amministratore delegato che sostanzialmente non c'è una logica della giornata lo dicono le delibere e i regolamenti c'è una logica anche di come si presentano in quelle in quei momenti anche alcune cose questo vale per RAI News come vale per tutti non è che il tema poi tutto questo perché perché sostanzialmente noi non possiamo immaginare che non ci sia diciamo da questo punto di vista il rapporto fondamentale di quello che è il pluralismo perché il pluralismo deve essere informativo deve essere come dire di presenza di voci di condizioni ma perché a mio avviso ha un valore cioè il servizio pubblico è servizio pubblico se sostanzialmente è plurale altrimenti non è più servizio pubblico quindi io vi chiederei su queste cose che ci siamo detti e su l'ultima cosa che sono i palinzesti qual è il punto rispetto al tema del 7 luglio perché ovviamente siamo a un mese dell'insediamento del nuovo vertice ma siamo a un mese dalla presentazione dei nuovi palinzesti quindi è utile capire quali sono qual è il livello di lavoro quali sono le difficoltà anche perché a mio avviso noi siamo molto preoccupati diversamente da qualcun altro che la presenza l'uscita di alcune personalità molto importanti della RAI porta diciamo un tema di vuoto di pluralismo dell'informazione ma anche fatemi dire anche un tema di risorse perché quando io prima chiedevo se c'è bisogno di chiedere quanto prendono c'è bisogno di capire anche quanto portano e quindi da lì incominciare a lavorare in una direzione che sia il più possibile un'azienda grazie la senatrice Mussolino ed è l'ultimo intervento di questo primo giro grazie presidente sarò breve davvero non come chi mi ha preceduto senza nulla voler togliere gli interventi precedenti però siamo tanti e quindi è anche giusto che ognuno di noi faccia economia dello spazio ringrazio la presidente l'amministratore delegato e il direttore generale per i loro interventi le loro relazioni che ho molto apprezzato i temi sono certamente tanti e meriterebbero un approfondimento che però per motivi di tempo in questo momento non possiamo fare perciò darò degli interventi spot dei quesiti specifici presidente lei ha detto che l'età media dell'utente RAI è di 63 anni io mi permetto di dirle che purtroppo si vede il palinsesto il ministratore delegato mi guarda un po' male però purtroppo lo devo dire da utente prima ancora che da senatrice purtroppo lo devo dire perché è una televisione che ha un'attrattività da parte dei giovani veramente bassa tant'è vero che i dati successivi confermano che gli under 35 gli under 15 non la guardano completamente tra i 15 e i 35 anni il tempo è davvero residuale allora la prima domanda che pongo è questa che cosa intendete fare per aumentare la vostra attrattività nei confronti di queste due fasce d'età e cosa intendete fare anche dal punto di vista della qualità dell'informazione e dell'intrattenimento la RAI l'amministratore delegato l'ha detto tutti noi in quest'aula siamo cresciuti con la RAI è vero glielo confermo però noi adesso mediamente siamo diventati vecchietti diciamo siamo quelli che siamo cresciuti adesso abbiamo una fascia di utenza che deve crescere con la RAI perché noi ci crediamo sul servizio pubblico ci crediamo e ci investiamo ci state chiedendo di investire sulla RAI lo faremo ma ovviamente dobbiamo sviluppare un'attrattività che però non può essere un'attrattività di basso livello su questo io ci tengo a richiamare la massima vostra attenzione sia per la qualità dei contenuti e mi riferisco a tutta quella fascia di programmi che si occupano dei casi di cronaca nera sviscerando particolari dei quali il pubblico non ritengo che abbia nessun interesse a conoscerli e purtroppo ahimè vi chiedo anche di sapere se avete mai fatto indagare se c'è un effetto emulativo e in che termini ci sia perché questo è un quesito importante per chi fa informazione comprendere qual è poi il limite tra informazione e diciamo esagerazione nella diffusione di determinati dettagli l'altro tema che pongo è quello relativo alle donne al gender gap i contratti pubblici di tutte le pubbliche amministrazioni sono pubblici sono dati che possono essere consultati da chiunque non vedo quale sia la ragione per la quale anche i contratti della RAI non possono essere resi pubblici nei termini nelle modalità nelle scadenze e soprattutto nei compensi è un dato di trasparenza che serve anche all'utente a capire quando sta guardando un programma quanto si è investito in quel programma a cosa serve quel programma e fare una valutazione qualità prezzo che purtroppo è quella che poi tutti noi facciamo nella nostra quotidianità e che è corretto che sia consentita anche nei confronti di vertici RAI un piccolo inciso lo faccio con riferimento alle precedenti audizioni dei sindacati che hanno lanciato un grido d'allarme lamentandosi della farraginosità della procedura per l'acquisto di attrezzature quasi lamentandosi dell'applicazione del codice degli appalti che peraltro a luglio entrerà in vigore con la riforma quindi saranno procedure semplificate però su questo mi permetto di fare un inciso se davvero c'è tanta farraginosità nell'acquisto delle attrezzature evidentemente c'è scarsa programmazione prima ex ante non posso arrivare all'ultimo rendendomi conto che mi serve un banco regia uno studio televisivo attrezzato mi sembra come dire non mi rendo conto di ciò che mi servirà e ci arrivo poi incorro poi in tutte le lungaggi del caso che sono norme di legge come tali ineludibili e non c'è neanche da dirne terzo quesito i miei colleghi riguarda il pluralismo i miei colleghi si sono lamentati più o meno tutti sul pluralismo dell'informazione allora se c'è qualcuno che si può lamentare sul pluralismo dell'informazione sono io che sono un esponente di un partito che si chiama Sud e chiama Nord abbiamo vinto le elezioni sono state elette io al collegio uninominale del Senato e un mio collega all'uninominale della Camera rappresentiamo l'1% dell'elettorato nazionale e siamo il primo partito assoluto da soli in Sicilia ebbene perché lo dico direttore generale mi guarda perché lo dico perché durante tutta la campagna elettorale siamo stati completamente oscurati mai comparsi vabbè eravamo una forza nuova chissà vedremo cosa farete all'affermazione quando il dato è stato l'1% e ritengo che l'1% per un partito territoriale che si affaccia alle prime elezioni sia un dato importante siamo stati definiti nelle tabelle altri cioè non abbiamo avuto neanche diritto alla denominazione abbiamo anche fatto una segnalazione ma è caduta come lettera morta diciamo come foglia d'autunno allora il pluralismo dell'informazione di cui i miei colleghi hanno messo in evidenza la necessità è una necessità non soltanto in termini di disposizione di spazio per i grandi partiti è una necessità che deve riguardare i territori davvero consentendo a ciascun territorio di esprimere la prima voce tramite i rappresentanti che ha scelto di avere e allora dico e lascio la parola il microfono che nelle fasce più importanti come prima diceva l'onorevole Bonelli richiamando il grande pannella nelle fasce più importanti noi non siamo mai comparsi questa non è una doglianza ma proprio è una contestazione diciamo oggettiva dei fatti sui quali credo che bisogna che si avvii una seria revisione anche nella distribuzione degli spazi e nella gestione del pluralismo grazie grazie allora giusto per organizzare i tempi abbiamo disponibilità dei nostri ospiti fino alle 10.45 io adesso lascerei a loro la possibilità di rispondere dopodiché proveremo a fare un secondo giro di certo vi posso dire che prima dell'audizione ci siamo confrontati con i vertici RAI riteniamo sia importante la loro presenza costante in questa commissione per cui sicuramente con cadenza trimestrale ho avuto la loro disponibilità a presentarsi ovviamente se non ci sono particolari necessità che anticipino questo ritmico incontro che abbiamo definito esserci quindi li rivedremo assolutamente a fine a fine estate diciamo così come tempistica per cui sappiate che da adesso in poi li incontreremo spesso mi dispiace a volte essere perentoria un po' nei tempi perché non mi piace dare il minutaggio perché un ragionamento può a volte avere necessità di qualche minuto in più solo che lo spazio è poco e i nostri interventi sono tanti prego grazie grazie per le folte domande io mi sembra di essere stata coinvolta su alcuni perché la maggior parte sono ovviamente gestionali perciò lascio all'amministratore regato e direttore generale rispondere per quanto riguarda l'onorevole Lupi il tema del pluralismo del fake news alfabetizzazione digitale che è una delle deleghe della supervisione rispetto alla presidenza il pluralismo è vero non è solo culturale è anche generazionale anche del territorio e dunque come fare a verificare che questo avvenga ovviamente è un tema di piano editoriale perciò lascio ai miei colleghi ma è sicuramente uno dei temi da misurare da tenere presente si ritorna un po' al tema di quali sono i dati che possiamo rilevare tutto il tema dei giovani dunque del fake news di cosa vuol dire la felicitazione digitale è anche un capitolo importantissimo nella linea guida del nuovo contratto di servizio la qualità dell'informazione risiede lì e ci sono due temi uno è la formazione dei giornalisti che è già stata ampiamente avviata da un anno e mezzo su tutto il tema delle fake news e adesso ne parlavamo proprio ieri verrà ulteriormente amplificata perciò come si costruisce la notizia ma il vero valore aggiunto che si vede anche a livello europeo è il cosiddetto media literacy perciò aiutare i cittadini a capire se cosa vedono può essere vero o meno questo è la parte importantissima di nuovo del contratto di servizio che richiede risorse richiede attenzione e ovviamente è particolarmente importante per le fasce giovani non solo ma sugli strumenti sui prodotti digitali per quanto riguarda invece vicepresidente l'onorevole montaruli il tema delle generi e delle quote eccetera io penso che se lei faccia una ricerca non troverà mai una parola quote all'interno di tutto quello che ho detto rispetto alla parità di genere sono abbastanza allergica alla parola e anche al concetto si parla sempre di merito il problema è che molto spesso come esseri umani noi andiamo tutti per abitudine facciamo le cose che abbiamo sempre fatto perché è più comodo perché siamo semplicemente molto molto presi ci vuole il tempo di fermarsi di guardare di farci le domande per cercare oltre i nostri soliti schemi per capire se ci sono risorse esterne interne che non abbiamo preso in considerazione anche perché magari sono di un altro genere questo è il tema importante si parla di merito mai mai di quote perciò questo per quanto riguarda quello e invece l'ultima domanda perciò la senatrice Musolini per quanto riguarda come attrarli e appunto il tema del gender come attrarre i giovani l'abbiamo già parlato dobbiamo farlo sulle varie piattaforme sui social questi sono un po' i progetti che sono in atto e di nuovo sono al vaglio del vertice parlo un po' veloce perché mi rendo conto che appunto ci sono tante altre domande da rispondere sul tema della trasparenza per quanto riguarda il gender gap allora la RAI è una società per azioni con la qualifica di organismo di diritto pubblico in quanto tale soggetta in particolare all'applicazione del codice degli appalti pubblici cioè non è un'azienda pubblica magari perché se fossimo un'azienda pubblica potremmo accedere a PNRR potremmo seguire tutta una serie di iter ma noi siamo una spa però sotto anche alcune tutele del servizio pubblico veramente un problema burocratico non da poco ma questa è la governance e perciò questo dobbiamo tenersi prego amministratore delegato allora è chiaro che le domande sono tantissime gli interventi che sono stati fatti sono interventi tutti molto come dire puntuali e meritevoli di risposte anche più ampie di quelle che darò adesso in realtà mi sembra di poter dire che in molte domande che ci sono state in realtà sono stati sono stati ripresi concetti che io ho cercato di inserire all'interno della mia relazione quindi quando noi parliamo e mi rivolgo quindi alla primo intervento del senatore Gasparri al tema del pluralismo beh il tema del pluralismo come dire io l'ho considerata una parola chiave all'interno della relazione quindi è evidente che su questo tema noi dovremmo avere l'attenzione perché tutto questo diciamo tutto quello che noi andremo a fare abbia la caratteristica del pluralismo cioè sia aperta a tutte le aree di riferimento politico culturale sociale e quindi in questo senso penso di poter dire che il tema è alla nostra attenzione e faremo in modo che sia garantito a tutte le aree culturali del paese e a tutte le forze politiche di riferimento ecco sui temi più specifici del Fimi per esempio c'è in corso una verifica legale stiamo valutando certamente noi dovremo poi arrivare a una conclusione di questa verifica e a eventuali o possibili accordi è inutile non lo dico una volta poi non lo ridico più è chiaro sono arrivato da 15 giorni sono molto favorito dal conoscere perfettamente l'azienda ma non nel dettaglio talune cose che oggi vengono poste all'attenzione il tema di Rayway il tema di Rayway è un tema evidentemente importante che dobbiamo verificare con il Ministro dell'Economia è un asset per noi di straordinaria rilevanza non ho in questo momento indicazioni o valutazioni da poter dare sia perché siamo in un'ora in cui la borsa è aperta ed essendo una società quotata non si possono dire cose che possono andare ad incidere sul mercato ma anche perché oggettivamente non c'è stata possibilità ancora di un confronto con l'azionista per andare a approfondire la tematica il tema delle fake news delle riparazioni delle fake news e quindi degli interventi che vengono inseriti all'interno di trasmissioni bisogna fare in modo che laddove queste cose accadano ci sia una rettifica una replica successiva almeno per poter avere come dire ristoro di una informazione non corretta o comunque confusa contestabile quindi mi sembra che su questo tema farò in modo che questo accada e che sia rispettato poi dai singoli editori che sono poi i generi all'interno delle quali ci sono le varie offerte editoriali canone la posizione l'ho espressa chiaramente quindi il tema del canone e il rischio che un minor canone possa andare a incidere sul tema pubblicitario e quindi su chi oggi vive della parte di quella pubblicità che oggi la RAI non raccoglie è evidente lo sappiamo lo conosciamo io sono stato per sette anni presidente della Sipra e prima ancora investitore pubblicitario in un'azienda prima pubblica e poi privata quindi conosco bene il meccanismo ed è chiaro che la garanzia del canone e i limiti che sono stati dati dal TUSMAR garantiscono una pluralità di investimenti anche su quotidiani giornali media nazionali che secondo me è un valore che va preservato credo di aver più o meno risposto a tutto passerei al senatore Berghesio che ringrazio piano immobiliare va avanti la sostituzione di Cecatto e Berghesio chiedo scusa chiedo scusa Berghesio piano immobiliare va avanti non è il caso però io con Roberto Sergio la confusione è totale sempre quindi alcune volte capita è vero non è vero in molti casi mi chiamano Bruno non so perché ma va bene succede succede anche questo non so allora piano immobiliare piano immobiliare andiamo in continuità ne abbiamo già parlato con la Presidente abbiamo nominato una donna a capo della direzione che precedentemente era occupata da un uomo che è ciecato con la dottoressa Sciommeri donna di grande valore che era a capo del centro di produzione e che come dire prossimamente si presenterà in consiglio di amministrazione RAI per gli aggiornamenti necessari su tempi e modalità di questo piano che non è in discussione Produzioni esterne e agenti che subappaltano allora io qua mi vorrei rifare non solo alle dichiarazioni che ho fatto ma anche al mio storico nel senso che nella direzione radioifonia dove sono stato fino a qualche giorno fa sostanzialmente non avevamo nessun appalto esterno abbiamo privilegiato una fortissima digitalizzazione che ha consentito di poter avere studi multipiattaforma che garantiscono quindi un utilizzo direi ad altissimo livello degli studi stessi per più prodotti all'arco della stessa giornata ovviamente questo garantirà laddove venga esteso cosa che io chiederò di fare non solo ai centri di produzione più rilevanti che sono notoriamente Roma, Napoli, Milano e Torino ma anche soprattutto nelle sedi regionali dei modelli produttivi e degli studi digitali che saranno sostanzialmente in grado di efficientare e di garantire un micro e non riscorso fino ad arrivare a zero quando sarà possibile sia per quanto riguarda le produzioni esterne che questi contratti omnicomprensivi che naturalmente non ci consentano poi di fare quelle giuste ottimizzazioni che noi siamo stati in grado di fare in direzione reale e credo si possano fare bene anche in azienda spese legali vabbè premesso che la razionalizzazione dovrà essere fatta su tutte le tematiche aziendali e l'ottimizzazione su tutte le tematiche aziendali mi sento di dire che per esempio noi siamo l'unica stazione appaltante che ha una gara in corso per selezionare i legali del contenzioso non solo ma ho chiesto già all'avvocato Spadafora che è il direttore degli uffici legali di iniziare a lavorare su una tornazione dei vari legali che sono stati utilizzati negli anni apprendoci ulteriormente sulla bassa della professionalità e delle garanzie che questi studi legali possono offrire ad altri soggetti e quindi in questo senso penso anche di aver dato una risposta o sulle sedi regionali al netto di quelle sedi che sono inserite all'interno del piano immobiliare quindi le eventuali vendite piuttosto che affitti piuttosto che trasferimenti queste sedi regionali saranno molti piattaforme anch'esse saranno io penso nel corso di un anno dotate di studi specifici che consentiranno oltre alla TGR anche di fare prodotto prodotto televisivo radiofonico così come è stato fatto con tanti studi che abbiamo realizzati nella radiofonia a me non risulta però su questo devo fare un approfondimento che ci sia stato nessun giornalista preso dall'esterno comunque prima del mio arrivo in Rai come diciamo di amministratore delegato che superi il tetto che abbia superato nel valore assoluto del contratto e la cifra di 240.000 euro l'anno è un tema parliamo di conduttori giornalistici quindi non parlo di format o di programmi in senso ampio però questo è un tema che io approfondirò ulteriormente canone per pluralismo questo l'abbiamo già detto che noi intendiamo come dire sostenere la battaglia come già nel mio intervento era assolutamente chiaro credo di aver risposto più o meno a tutto vero l'onorevole Bergesio allora l'onorevole Bonelli grazie a parte che anche io ricordi dell'amico Pannella conosciuto tanti anni fa no no allora canone interlocuzione col MEF noi abbiamo aspettato il passaggio odierno in commissione di vigilanza e domani stesso chiederemo un appuntamento all'azionista per poter entrare nel merito del tema canone e modalità di riscossione devo dire anche questo poi risponde anche a tante domande che sono state fatte sempre sul canone che noi non abbiamo a questo momento una comunicazione formale inversa cioè stante l'attuale situazione al di là delle dichiarazioni che sono state fatte finora in realtà noi immaginiamo che il 2024 sia riscosso come è stato riscosso fino ad ora dopodiché se ci arriverà una comunicazione formale o una modalità diversa quando andremo ad incontrare il ministro Giorgetti allora ne prenderemo atto e ne potremo discutere domani chiederemo l'appuntamento domani chiederemo l'appuntamento pluralismo è il tema che avete affrontato tutti è un tema sul quale io sarò molto attivo insieme alla Presidente e al Direttore Generale la nomina di Monica Maggioni nell'area di coordinamento giornalistico credo che sia un valore un valore per lo standing della persona un valore perché Monica Maggioni ha capacità di interpretare questo ruolo la stessa Monica Maggioni verrà presto in Consiglio di Amministrazione proprio per esaminare i dati assieme al Consiglio dell'Osservatorio di Pavia verificare quali sono le eventuali disattenzioni o discrepanze o tematiche che vanno meglio gestite e approfondite quindi è un tema alla nostra attenzione crediamo di aver messo la persona giusta al posto giusto in sostituzione della dottoressa paternitica andata in pensione ma comunque crediamo che con la dottoressa Maggioni noi potremo essere in grado di fare un ulteriore salto di qualità e garantire al massimo un tema che sta così a cuore a tutti noi parità di genere allora l'ho detto prima e ovviamente non è elemento rilevante lo staff che io mi sono costruito e fatto una direttrice e una vice direttrice credo molto nella parità di genere credo anche che il gap si superi nel tempo nel senso che se un'azienda è stata prevalentemente maschile oggi deve diventare come dire molto più equilibrati il rapporto ma evidentemente deve crescere anche una classe dirigente che magari negli anni passati o non c'era o non era cresciuto gli inserimenti dei giovani quelli che vengono da selezioni quelli che vengono attraverso diciamo i contratti giornalistici rispettano queste quote questo significa che nel tempo ma naturalmente il tempo significa che noi daremo l'opportunità di crescita nelle strutture caporedattori piuttosto che vice direttori piuttosto che nei consigli di amministrazione delle società consociate cosa che abbiamo fatto proprio recentemente perché noi in due consigli di amministrazione quello di Raicom e quello di Rai Cinema abbiamo esattamente il 50% su 10 5 donne 5 uomini quindi l'obiettivo lo vogliamo raggiungere dobbiamo far crescere come dire la professionalità attraverso formazione attraverso ruoli in maniera tale che poi siano la classe dirigente e i top manager dell'azienda stessa d'altra parte e qualcuno l'ha detto ma lo riciterò dopo l'attuale configurazione Rai e i vincoli che ci sono posti ci mettono in una condizione difficile anche sul mercato quindi andare a prendere sul mercato le professionalità uomo-donna con i tetti che abbiamo e con i limiti che abbiamo in un mercato così competitivo credo che sia un elemento che ci limita molto ed è un tema che secondo me è bene che anche la commissione approfondisca con noi e ci aiuti a risolvere vediamo palinzesti no palinzesti mi sento ovviamente sui palinzesti stiamo lavorando e quindi non posso dire nulla salvo dire che non ci sarà nessuna trasmissione d'inchiesta che sarà soppressa e che il programma più specifico che voi avete citato indovina chi viene a cena è stato in palinzesto lo sarà nella replica e continuerà nel 2024 questo per rispondere in maniera diciamo puntuale a questo aspetto la citazione iniziale era stata fatta sul fatto che io ero stato nominato dal governo e quindi in questo senso poi c'era il tema del vice presidente del consiglio eccetera allora io sono stato nominato dal governo e credo che questo sia per me ma per chi verrà dopo di me un fatto positivo un valore nel senso che per la prima volta viene nominato un interno e questo probabilmente al di là della mia persona aiuta a sostenere fortemente anche rispetto a tesi diverse il valore dell'azienda e il valore che all'interno dell'azienda deve essere mantenuto compreso il canone quindi io non sono stato indicato per accettare l'idea che il canone non ci debba essere più questo per chiarire un aspetto che mi sembrava fondamentale onorevole caro tenuto allora cosa faremo a D e DG beh in questo periodo stiamo facendo tutto insieme nel senso che non abbiamo tempo per distinguerci e per lavorare su settori diversi in maniera autonoma indipendente e serena stiamo correndo perché la macchina deve essere messa in moto tenete conto che i palinzesti che noi presentiamo il 7 e che di luglio a Napoli e che il 22 avranno il primo passaggio di giugno il primo passaggio in CDA in grossa misura entro la fine di giugno già devono essere messi più o meno nei listini pubblicitari della concessionaria cioè i tempi tecnici per poter garantire diciamo la pianificazione pubblicitaria è solo tra l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio quindi noi non potevamo fare altro in questo momento che accelerare e mettere nelle condizioni l'azienda di poter lavorare con grande come dire impegno come ho detto prima domani chiederemo l'appuntamento con il ministro dell'economia per quanto riguarda i palinzesti penso di aver risposto già sui temi di inchiesta o i programmi di inchiesta al momento non c'è nessuna decisione e comunque qualunque decisione verrà presa anche di concerto con chi poi dovrà andare a occupare uno spazio quindi non c'è un'imposizione o una scelta diciamo che viene imposta dall'alto le scelte sui conduttori e la scelta del posizionamento dei programmi vengono fatte anche sulla base di analisi di marketing che abbiamo evidentemente commissionate e sulle quali poi prenderemo le decisioni ambiente ma io credo molto a questo tema adesso faccio una citazione personale scusatemi io ho rinunciato immediatamente a una macchina diesel di grossa cilindrata per prendere un'elettrica di media cilindrata perché credo profondamente che questo sia un passaggio decisivo rispetto anche simbolico voglio dire adesso non vuole significare nulla però per dire che l'attenzione c'è ci sarà sempre di più abbiamo programmi che vanno nella direzione ne avremo ancora altri abbiamo poi i famose attività di cui parliamo da tempo Caterpillar più è piuttosto mi illumino di meno ma un'attenzione quotidiana alla tematica ambientale che cercheremo di rendere pervasiva su tutta la produzione di daytime e di prime time credo di aver esaurito l'onorevole Lupi e l'onorevole Lupi pone temi di altissimo come dire rilievo importanza che meritano un approfondimento ancora più forte ancora più serio come dire sul tema del servizio pubblico sul tema dell'informazione sul tema del pluralismo ne abbiamo parlato e credo che la mia relazione da questo punto di vista avesse in qualche modo cercato anche di prevenire le domande e le risposte e le risposte da dare ma perché ci credo profondamente chi mi conosce sa che io nasco dal pubblico poi passa al privato poi ritorno al pubblico ho una forte sensibilità rispetto a queste tematiche quali strumenti ovviamente la capacità di rappresentare non solo la politica ma la cultura il sociale noi dobbiamo farlo tutto questo non solo attraverso i TG non solo attraverso gli strumenti tradizionali ma le fiction i documentari i programmi di intertenimento il day time così come per l'ambiente anche le tematiche sociali e culturali oltre la politica devono avere una presenza nei tutti i nostri prodotti in maniera in maniera seria l'onorevole Lupi ha citato lui il tema del mercato il tema dei vincoli e l'abbiamo parlato adesso con la Presidente quando parla di un SPA che ha come dire viene considerato un'azienda pubblica questo è un tema veramente importante è un tema di grande importanza che va affrontato seriamente perché oggettivamente ci crea una complessità e dei limiti enormi che nel poter esprimere quotidianamente l'attività ci mettono in grande difficoltà i misuratori della correttezza dell'informazione è un tema che affideremo oltre che dal Consiglio ovviamente alla Dottoressa Maggioni di cui avrà che sarà una delle mission principali l'alfabetizzazione digitale beh quello lo dobbiamo fare nei programmi e con programmi specifici quindi ovviamente sì se noi vogliamo diventare digital media company è evidente che dobbiamo anche abituare le persone a capire come si usa poi un'azienda che va sul mercato digitale come già stiamo facendo perché non vi sfugge che Rayplay e Rayplay Sound sono due piattaforme importanti dove c'è una infinità di prodotto che può essere fruito ovviamente in modalità digitale quindi è importante e faremo delle campagne importanti su questo ah devo stringere perché se no ok onorevole Montaruli ecco sul tema dei compensi dei risparmi del genere intanto grazie sul tema dei risparmi come dire con il direttore generale stiamo già ragionando sul budget la seconda riprevisione poi la terza quindi la chiusura del bilancio 2023 e vi assicuro che l'attenzione sarà totale nel senso che se mai si dovessero evidenziare degli sprechi quelli saranno tagliati immediatamente senza azioni lineari e senza andare a deprimere il prodotto che evidentemente è la cosa più importante quindi andremo a verificare genere per genere prodotto per prodotto senza voler essere punitivi ma per cercare di capire e incidere poi nelle scelte se ci sono da fare per evitare che appunto ci sia lo spec che si possa utilizzare al meglio la risorsa pubblica che ci arriva noi siamo un'azienda sul mercato quindi con la concorrenza abbiamo siamo i mettitori di un bond abbiamo una società quotata e come vi è stato detto più volte in passato adesso ne riparleremo più avanti magari il tema dei compensi è un tema sensibile è un tema delicato non i nostri naturalmente che sono pubblici come ben sapete ma quelli in particolare degli artisti e quindi su questo tema faremo degli ulteriori approfondimenti e magari avremo modo di riparlarne i palinziesti li organizziamo li organizziamo garantendo la continuità del meglio e valutando come coprire eventuali uscite e le sappiamo anche quelle che ci sono state e come anche integrarle con un nuovo prodotto e nuove conduzioni che ci possano sembrare interessanti e rilevanti Onorevole Graziano grazie allora in questo caso tre temi li abbiamo già affrontati molte volte piano industriale contratto di servizio canone canone domani chiederemo l'appuntamento sul piano industriale c'è un grande lavoro fatto adesso lo andremo a finalizzare sperabilmente entro la fine del mese di luglio contratto di servizio il ministro Urso ha annunciato che intende con la condivisione che abbiamo iniziato dopo il lavoro fatto precedentemente con il ministero perché venga presentato dentro il mese di giugno quindi i tempi mi pare che siano abbastanza accelerati da questo punto di vista ho già risposto mi sembra sul tema del canone della pubblicità dei temi di servizio pubblico sul tema dell'accordo sindacale io credo che l'accordo sindacale sia un valore nel senso che quell'accordo sindacale stabilisce una serie di principi stabilisce una serie di regole che noi ci vogliamo dare stabilisce una serie di tempi e questo è stato possibile per la relazione storica che c'era tra noi e le varie rappresentanze sindacali tutte dalla CGL all'UGL quindi per la stima reciproca per il rispetto dei ruoli e degli impegni presi nel passato questo ha favorito la possibilità dando anche alcune garanzie alcune certezze di poter sventare dico perché è legittimo pensare che ci sia uno sciopero ed è legittimo che venga fatto però è anche vero avveniva un giorno dopo l'insediamento del nuovo amministratore delegato e questo visto che non dipendeva dall'amministratore delegato entrante sembrava un messaggio che abbiamo cercato e voluto evitare ma anche per non mettere nelle condizioni i cittadini che pagano il canone di avere una giornata senza nessun tipo di programma perché sarebbe stato ovviamente uno sciopero che avrebbe consentito solo l'informazione obbligatoria allora senatore Mussolino allora sull'età media è vero quello che ci siamo detti però è anche vero e io mi sento di poterlo dire che stiamo cominciando a fare delle cose importanti innanzitutto le piattaforme Rayplay e Rayplay Sound vanno in quella direzione e non a caso il famoso mare fuori che ha portato molti giovani e che tuttora ne porta come dire è proprio vissuto attraverso le piattaforme attraverso gli smartphone attraverso i tablet ma poi anche lo stesso programma di Fiorello lo stesso Sanremo degli ultimi anni hanno fortemente incentivato la presenza dei giovani attraverso nuovi giovani che ci sono proposti all'interno delle trasmissioni televisive io ho in radio iniziato una sperimentazione che mi auguro possa crescere che non è in radio non è in radio è una radio esclusivamente legata a questo target che noi non abbiamo abbiamo fatto due eventi nel centro di produzione di Napoli con dei giovanissimi rapper trapper napoletani abbiamo avuto due pienoni quindi 1600 giovani che sono entrati negli studi di questo bisogna fare andare nel territorio andare nel territorio con proposte nuove e fare delle attività ovviamente digitali che ci consentono di far conoscere l'azienda però poi abbiamo Caterani De Logo la Stoccolma Lundini cioè questo tema è un tema fortemente alla nostra attenzione ovviamente sapendo che dobbiamo comunque mantenere il nostro pubblico di riferimento quindi dobbiamo giocare la doppia partita in maniera tale che il pubblico rimanga e il nuovo si possa piano piano avvicinare lei ha perfettamente ragione io tutte le volte che parlo con i direttori di genere dico vorrei ascoltare delle buone notizie ecco quindi come dire ci credo profondamente non so quanta cronaca nera sparirà perché sono anche fatti di cronaca certo vedere come dire tallune e immagini sono secondo me soprattutto in quelle fasce orarie disturbanti e quindi su quello penso che sia necessaria una riflessione rimane il fatto che di certi temi nel momento in cui accadano anche e soprattutto per rappresentare e stigmatizzare e come dire condannare taluni comportamenti credo che il servizio pubblico lo debba fare e se ne debba occupare non penso che ci possa essere emulazione io penso che il condannare in maniera forte con argomenti seri sia un valore che dovrebbe essere coltore tutti e poi chiaro non so che altro c'era c'era qualche altra cosa ma il pluralismo l'abbiamo detto sempre e come dire ribadisco e le mando adesso le faccio avere tanto la Presidente accopia il mio intervento che ha gli atti ed è come dire scritto e quindi quello che c'è scritto è quello che io ho detto mi sembra che abbiamo risposto più o meno tutti non so se chi manca? però il Direttore Generale credo che voglia aggiungere qualcosa scusate il tempo per dovere più che altro e allora brevissimamente faccio solo delle considerazioni così di chiusura visto che l'Amministro del Decato ha risposto più o meno a tutti i quesiti che sono stati fatti allora io credo che noi siamo di fronte molto spesso si dice quando i vertici nuovi si presentano alla Commissione di Vigilanza o alla Nazione nel parlare del servizio pubblico dicono siamo di fronte a un punto di svolta molto spesso non è vero in realtà in questo caso lo è noi siamo di fronte a una fase di accelerazione importante del mercato in cui nel brevissimo tempo di pochissimi anni si deciderà il futuro dei broadcaster tradizionali servizio pubblico ma broadcaster commerciali che sono un po' come dire una sorta di argine rispetto a quello che è l'elemento invasivo e disintermediante dei grandi player globali difendere il servizio pubblico radio televisivo significa difendere il racconto italiano difendere la nostra identità plurale la capacità di narrarla allora noi abbiamo diversi scenari davanti nei quali proveremo anche a fare delle trasformazioni importanti della RAI non appena avremo la calma necessaria per poterlo fare tra i progetti per esempio una riflessione andrà fatta prima il senatore Lupi parlava della formazione dei giornalisti voi sapete la RAI ha una scuola di giornalismo che è la scuola di Perugia che è una delle scuole più straordinariamente avanzate in Italia nella formazione del giornalismo multimediale non è una scuola aziendale ma è una scuola che la RAI finanzia uno dei progetti in campo paradossalmente i giornalisti che escono dalla scuola di Perugia non possono essere assunti ovviamente dalla RAI perché in RAI come sapete per un sistema normativo abbastanza complesso i contratti giornalistici possono essere fatti solo attraverso concorso pubblico però provare a fare la trasformazione della scuola di Perugia anche in una grande in un grande asset sulle nuove professioni delle televisioni su cui le nuove figure professionali su cui la RAI può dare un input molto molto forte c'è un tema complessivo che io invito diciamo i rappresentanti della politica e della sovranità popolare perché poi alla fine il dibattito su chi è il proprietario della RAI e il Parlamento cioè sono i cittadini che pagano il canone e questo noi abbiamo bisogno di un alleggerimento della tensione sul servizio pubblico radio televisivo per consentire alla RAI di camminare speditamente di fronte a queste sfide c'è un tema delle risorse sicuramente ma è un tema che deve affrontare la politica gli amministratori dell'azienda hanno il compito di accendere degli alert su quelli che possono essere gli elementi di criticità io aggiungerei un secondo elemento che è quello di una discussione sulla natura giuridica dell'azienda l'azienda dal 2008 è stata inserita prima lo accennava la Presidente Soldi all'interno di una dimensione pubblicistica che in realtà la sovraccarica di buona parte dei problemi che voi avete evidenziato oggi in audizione buona parte dei problemi della RAI è legato al fatto che la RAI non è un'azienda che si muove liberamente sul mercato ma è un'azienda che è soffocata ad un apparato di norme di burocrazia di controlli che ha tra l'altro fatto un processo estremamente delicato cioè ha trasformato sempre più la RAI da una società editoriale a una società di processi e quindi tutto molto più difficile perché poi nello stesso tempo la RAI si confronta con un mercato che è accelerato totalmente che è in grande velocizzazione quindi questo è un altro aspetto che a mio avviso la politica e il Parlamento devono affrontare io rimango convinto l'ho detto più volte che noi abbiamo bisogno di coinvolgere la società civile su una discussione ampia di cosa serve oggi il servizio pubblico radio televisivo e multimediale li chiamai tempo fa gli stati generali del servizio pubblico possiamo organizzarlo come vogliamo ma in realtà la RAI può essere il principale ascoltatore delle esigenze del nostro Paese su quello che può essere la funzione del servizio pubblico proprio nella sua definizione di ruolo di pluralismo e di confronto e di pluralità di narrazione quindi è una sfida importante perché lo snodo in cui noi ci troviamo è molto molto accelerato tema dei target giovani lo diceva prima l'amministratore delegato dobbiamo fare un po' attenzione molto spesso ai dati che facciamo vedere perché quando noi facciamo vedere i dati che riguardano ovviamente l'anzianità del pubblico sono dati che complessivamente raccolgono soprattutto la fruizione e il consumo della televisione lineare il punto che i giovani sulla televisione lineare non torneranno più come diceva un mio grande maestro grande come dire studioso della comunicazione italiana Mario Morcellini la televisione nei paesi occidentali sopravvive per l'invecchiamento della popolazione non c'è nulla da fare il punto è un altro è dare ai giovani l'offerta non lineare con i nuovi modelli di fruizione su cui oggi la RAI vi assicuro è avanguardia in Europa lo dico perché perché io entrai in RAI ai tempi del direttore generale Flavio Cattaneo che ritengo essere stato uno dei grandi manager dell'azienda di servizio pubblico ne ho conosciuti tanti nei miei anni che hanno dato una grande spinta diciamo di accelerazione industriale a quell'azienda così come Fabrizio Salini è stato diciamo l'amministratore delegato che ha dato la spinta sull'innovazione del prodotto sulla visione della RAI nel futuro e nella sua costruzione di un prodotto innovativo e allora noi mettemmo in piedi la più importante digital factory dopo quella della BBC che era in un servizio pubblico europeo che era incentrata in RAI Net in questi anni noi abbiamo riconsegnato alla RAI il ruolo importante sulle piattaforme non lineare non è un caso che ai tempi del 2019 2020 ricostruimmo il progetto di RAI Play mettendo a capo di quel progetto la stessa persona che costruì con me una delle giovani dirigenti che mise in piedi con me il progetto di RAI Net Elena Capparelli che oggi è il direttore digital della RAI ha costruito il grande processo di innovazione che oggi la RAI rappresenta ecco noi ci stiamo spostando su quella dimensione esattamente come sta facendo la BBC esattamente come stanno facendo altri broadcaster pubblici perché è lì che andiamo intercettare le giovani generazioni non più sulla televisione lineare ultimo tema quello del pluralismo è un tema su cui c'è il fondamento del servizio pubblico il canone non è una tassa giuridicamente il canone è un'imposta e i legislatori decretarono che il canone fosse un'imposta proprio perché non deve essere pagata in cambio di un servizio ma perché rappresenta il servizio pubblico una garanzia di ogni modello democratico moderno per questo esistono i servizi pubblici in tutti i paesi occidentali ovviamente questa natura di imposta e non di tassa del canone impone che il primo valore del servizio pubblico è il pluralismo ecco su questo io credo che noi stiamo lavorando bene proprio per garantire un pluralismo che spesso in passato nella RAI non c'è stato anche nel passato recente perché rimaniamo convinti che il pluralismo non si ottiene per sottrazione ma per somma cioè l'aumento possibile e totale del racconto delle diverse culture del nostro paese questa è la sfida che noi raccoglieremo e vi assicuro che la RAI che stiamo costruendo sarà molto molto più plurale di molte RAI del passato grazie so che il tempo è quasi finito vi chiedo però dando tassativamente due minuti a testa almeno di ascoltare gli ultimi quattro interventi e poi magari avremo raccoglieremo le vostre risposte per iscritto perché c'è veramente una commissione calda e che freme questo è un buon segno credo anche per voi quindi possiamo abusare di qualche minuto in più grazie prego bevi l'acqua grazie presidente grazie ai vertici per essere stati qui così puntuali nelle loro risposte io ritorno sul tema del pluralismo perché è stato declinato sotto diversi aspetti ma secondo me ne manca uno che è balzato agli onori della cronaca in occasione della trasmissione del comizio da Catania su Rai News perché al di là dei numeri che emergono dai report ovviamente dalle analisi più accreditate che vedono dei numeri tremendamente schiacciati su maggioranza e governo quello di Catania è un evento che ha messo in luce delle zone d'ombra che vanno al di là del singolo minutaggio o del rispetto delle regole perché è chiaro che trasmettere un evento in diretta rispetto al trasmettere degli spezzoni di altri comizi ha una valenza totalmente diversa e quindi io vorrei sapere ma credo che sia interesse di tutta la commissione capire qual è il vostro impegno per evitare che situazioni di questo tipo si possano mai più verificare per quanto riguarda le esternalizzazioni anche qui si parla di professionalità esterne lautamente retribuite il tema del ritornare a guardare alle professionalità che si hanno in casa sicuramente è importante ma vi chiedo anche cosa intendete fare per valorizzare invece tutti quei lavoratori esterni che sono diventati vitali in diversi ambiti e in particolare invece per quanto riguarda l'ambito della produzione di immagini è un settore in cui la RAI ultimamente ha ceduto molto terreno e chiedo se avete valutato la possibilità invece di indire ad esempio proprio un concorso nell'ambito della produzione di immagini infine nell'ottica della valorizzazione delle sedi territoriali a cui tutti avete fatto riferimento vi chiedo se si pensa di tornare alla realizzazione di programmi direttamente da parte delle sedi territoriali che sono dotate di un loro organico in termini di programmisti di autori di tutto quello che serve proprio per realizzare dei contributi che vanno a valorizzare in maniera peculiare i territori in cui insistono grazie Grazie Candiani Grazie Presidente in genere chi conclude o chi sta in fondo ha il vantaggio di tutto ciò che sta prima noi dobbiamo essere sintetici quindi lo sarò estremamente ringrazio gli amministratori per essere venuti a darci qualche informazione veramente importante e utile non tutto condivisibile tranne l'aspetto politico ovviamente legato a come finanziare la RAI però gli aspetti sui quali avete puntualizzato credo siano ampiamente condivisibili e apprezzabili c'è una questione e lo dico al Presidente per tutti sulla quale non possiamo più soprassedere che è la sistematica evasione delle risposte alle interrogazioni parlamentari che vengono poste le risposte vengono date in maniera formale in maniera totalmente evasiva rispetto ai quesiti posti che siano quesiti essenzialmente legati ad aspetti economici o che possono avere altre modalità ricordo che abbiamo un regolamento di commissione che l'articolo 17 prevede delle modalità di accesso e prevede anche una necessità di informazione che deve essere rispettata noi abbiamo il dovere di conoscere il dovere di rendere pubblici per quello che sono ovviamente i limiti ma di avere conoscenza di quelle che sono le spese fatte dalla RAI come vengono fatte il fatto di evadere queste risposte in maniera metodica non so se c'è ancora Gasparri ma ho letto la sua interrogazione e le sue risposte e dico inaccettabile inaccettabile ma lo dico per chi fa il parmentare per la prima volta o per chi lo ha un po' più di tempo risposte come quelle che vedo arrivare dalla RAI sono inaccettabili ci deve essere una risposta puntuale se poi le formalizzazioni debbono essere fatte con criteri di garanzia di tutela ovviamente ne siamo consapevoli ma non può essere che non sia data la risposta e per di più col sorriso ti venga detto beh ma abbiamo risposto cosa volete di più questo è inaccettabile quindi su questo che sia i costi delle sedie estere che siano i costi delle strutture esterne di collaborazione che siano altre cose i soldi come vengono spesi debbono essere resi pubblici grazie Rosso grazie Presidente allora vado per titoli avrei fatto più lungo allora intanto la mia RAI è la RAI che si ispira a quella RAI che ha fatto gli italiani ok perché 70 anni fa ricordo che solo il 4% degli italiani parlava l'italiano come prima lingua ecco quindi è stata cultura geografia storia questa è la RAI che noi vogliamo e che vogliono anche gli utenti contenuti e qualità certo sulle nuove piattaforme però su questo lancio solo un grido d'allarme anche a tutela dei minori non abbiamo parlato tanto di tutela dei minori noi ci torneremo abbiamo convocato tutta una serie di audizioni però parliamo di YouTube YouTube la RAI è su YouTube 5 milioni di iscritti anche lì bisogna stare attente a cosa presentiamo perché direi che la RAI non deve fare come tutti gli altri e cercare il like a tutti i costi allora quando io vedo un video con 157 mila visualizzazioni tutti i baci di Sanremo non importa che siano tra uomini tra donne o tra uomo e donna che non presentano a nessuno anche ai minori che possono accedere in una spiegazione di quello che avviene non va bene non è questa la RAI che vogliamo non sono questi i contenuti che vogliamo ultimo quindi vi chiedo ma mi sembra di aver capito nei vostri progetti che c'è questo rispetto dei contenuti e della qualità l'ultima questione è relativa alla contabilità separata di cui non abbiamo parlato allora Forza Italia non mette la questione del canone in discussione però sicuramente così come nel precedente contratto di servizio c'era un articolo l'articolo 21 dedicato alla contabilità separata io ho fatto questa domanda ad Agicom e non sono stato soddisfatto vi devo dire perché non mi hanno risposto e cioè siamo sicuri che in questo momento i programmi della RAI per il servizio pubblico sono finanziati dal canone e che il canone non va a finanziare altro ho fatto questa cosa assurda se verranno erogate da Agicom delle multe per quanto è successo a Sanremo per esempio siamo sicuri che non lo pagheranno i cittadini col canone questo ve lo chiedo perché nelle linee guida Agicom che hanno fatto pervenire a tutti noi si parla della contabilità separata come se fosse la prima volta di cui si affronta l'argomento invece dovrebbe già essere una cosa sodata grazie grazie Speranzone poi Verducci sì grazie presidente voglio ringraziare innanzitutto il consiglio di amministrazione il direttore generale e l'amministratore delegato per le loro relazioni che condivido in toto e anche per la pazienza con cui hanno risposto alle domande poste dei commissari sarò telegrafico ho un paio di domande da fare al direttore generale riferendomi a alcuni interventi che fece rispetto all'auspicio che venisse creato da parte della RAI un grande polo audiovisivo allora volevo capire se è della stessa idea e se pensa appunto di poterlo realizzare come e poi siccome l'ha anche citata nella propria relazione la propria esperienza come presidente di RAINET qual è stata e quali sono le differenze che ha trovato nella RAI dopo quell'esperienza che fece come presidente di RAINET grazie l'ultimo intervento Verducci grazie presidente è un'audizione importante anche io voglio ringraziare la presidente soldi di Sergio e il direttore generale Rossi tutti voi in replica avete riaffermato il valore del pluralismo sappiamo che pluralismo e autonomia sono le fondamenta del servizio pubblico fatemi dire che non siamo affatto rassicurati perché il tema del pluralismo non si può risolvere con enunciazioni c'è un allarme molto serio sul pluralismo nell'informazione RAI anche da prima che questi vertici si insediassero i dati dell'osservatorio di Pavia e dell'Agicom dicono di un'informazione in RAI completamente appiattita sulla destra che governa e sulla maggioranza parlamentare di destra e questo è un tema evidentissimo così come a nostro avviso c'è un allarme anche sulle nomine che sono state fatte auguriamo a tutti buon lavoro ma sulle nomine che sono state fatte nell'ultimo CDA perché alcune di queste nomine non hanno nulla a che fare con dei criteri evidenti e con la programmazione e la stabilità editoriale e industriale ma sembrano rispondere soprattutto a filiere politiche vengo poi a un tema più al tema più strategico che è quello probabilmente di fondo che voi avete posto qui e che noi raccogliamo il Partito Democratico sostiene il servizio pubblico noi siamo convinti che la RAI il servizio pubblico debba stare nel mercato distinguendosi facendo appunto servizio pubblico è una sfida epocale culturale e di mentalità è una sfida quella per la costruzione della media company digitale che è impostata sin dal 2014 è stato fatto bene è stato un bene ripeterlo però voglio dire che quella adeguatezza quella certezza quella stabilità pluriannale dei finanziamenti che la di Sergio ha rimarcato in audizione per ben due volte che è fondamentale per arrivare alla trasformazione in media company digitale si lega lo sappiamo al tema del canone noi sosteniamo e concludo presidente questa necessità chiediamo qui risposte certe alla maggioranza di governo al governo è ancora più urgente l'audizione che lei presidente citava del ministro Giorgetti chiudo su un tema sappiamo che sempre più giovani laureati lavoratrici e lavoratori lasciano l'azienda RAI perché attratti da altre aziende il tema delle generazioni digitali e del nuovo pubblico si lega a una nuova generazione anche il RAI questo è un problema gigantesco sul quale chiediamo risposte e l'ultima battuta che voglio fare a margine di questa audizione nel dibattito pubblico si sente molto parlare di narrazioni in RAI ecco la cosa che voglio dire la narrazione in RAI non può essere legata alle maggioranze di governo che si alternano la narrazione in RAI è legata alla costituzione del nostro paese a quei valori di inclusione di antidiscriminazione alla qualità che a quei valori deve legare il servizio pubblico che fanno della RAI l'azienda che deve essere un grande bene comune grazie grazie io ringrazio ancora la presidente soldi l'amministratore delegato Sergio il nostro direttore generale Rossi per la loro disponibilità vi chiediamo delle risposte rispetto a questi ultimi quesiti e se siete d'accordo prendiamo già appuntamento per la seconda metà di settembre in modo tale che come vedete e sentite anche molte persone sono rimaste diciamo insoddisfatte dal tempo dalla impossibilità di partecipare se posso alcune le vorrei assaurire velocemente ne siamo lieti alcune siamo al di là del pluralismo lo scriveremo esternalizzazione del personale sì senatore bevi l'acqua allora stiamo lavorando con il direttore del personale per valutare di tutte le collaborazioni esterne che ci sono all'interno dell'azienda le professionalità diciamo la durata dei contratti ed eventualmente in accordo con i sindacati immaginare che taluna di queste persone possano entrare all'interno del vecino RAI quindi questo è un tema alla nostra attenzione per quanto riguarda i programmi delle sedi regionali rispondo sì nel senso che avendo detto che la nostra intenzione è quella di individuare un modello produttivo e realizzare degli studi televisivi in ognuna di queste sedi che consentano di produrre quindi diciamo televisione in questo caso posso confermarle che andiamo in quella direzione onorevole Candiani va bene vedremo le risposte come erano precedentemente speriamo che le risposte che arriveranno dopo siano meno evasive di quello che lei ci ha detto per quanto riguarda le sedi estere sulle sedi estere stiamo facendo una valutazione seria nel senso che intanto è il perimetro sul quale dovremmo ragionare perché per esempio ci sono delle aree che sono completamente scoperte come l'America Latina per esempio o magari una maggiore attenzione al continente africano quindi su questi temi secondo me è necessario che ci sia un'attenzione ne parleremo con la Presidente con il Direttore Generale con la Dottoressa Maggioni oltre che con il Direttore Meloni che si occupa delle sedi estere anche lì sarà fatta una verifica puntuale di quelli che sono i costi adesso se riuscessi a trovare cosa ne riesco a trovare un punto riferito proprio alle sedi estere vi direi quante notizie vengono date il costo a notizia è l'ultima ecco infatti era proprio l'ultima non c'è arrivato perché era una cosa interessante allora 11 sedi estere attualmente Berlino, Bruxelles, Gerusalemme il carino Istanbul, Londra, Mosca, Nairobi New York, Parigi e Pechino vi ho detto già l'attenzione verso i costi di gestione del 2022 che non sono ancora definitivamente consuntivati ammontano circa 10,5 milioni di euro e le attività di informazioni e approfondimenti hanno generato 30.000 servizi con un costo medio unitario del servizio di 350 euro approfondiremo ulteriormente per valutare ancora di più se si può ottimizzare allora questa cosa di youtube i baci di Sanremo non lo so non l'ho visto certamente sono uno dei pochi in azienda che quando vi ha visto il famoso atto sulla poltroncina ha scritto un post di cui si è anche parlato in maniera polemica per cui è evidente che l'attenzione ci sarà sarà totale mi andrò a vedere questa pubblicazione e valuteremo sulle altre direi che possiamo fare come avevamo detto magari manderemo delle risposte scritte grazie grazie a voi vi chiedo da una presidenza tutta il femminile nella presidenza nella persona della presidente e delle vicepresidenti di attenzionare davvero il tema della parità di genere è molto importante grazie e ricordo a tutti i commissari che ci vedremo per l'audizione del professore Stagliano presidente dell'associazione italiana costituzionalisti giovedì 15 giugno alle 8 e 30 e mercoledì 21 giugno abbiamo l'audizione del dottor Paolo Petrecca direttore di Rai News alle ore 20 grazie e veramente gentilissimi anche della disponibilità oltre il tempo previsto grazie